segretario l'appello Gancitano presente Diadema assente Foggia presente Iacono assente Burzotta presente Mauro presenta Alestra presenta Gagliazzo presenta Firenze assente Provenzano presenta Safina presenta Cangemi presenta Bommarito presenta Arena presenta Dannibale presenta Marascia presenta Caruso presenta Impeduglia presenta Tumbiolo presenta presenta Giacalone Giuseppe presenta Zizzo presenta Foderà presenta Norrito presenta Randazzo presenta La Grutta presenta Giacalone presenta Zidonia presenta Alagna assente Di Gregorio assente Pernice presente Ingargiola presente Sualmia presente Di Gregorio assente 25 su 30 la seduta è valida Scudinatori Dannibale Marascia Cangemi è prevenuta nella nota del consigliere Alagna che per problemi personale oggi non sarà presente qua in aula ha chiesto di parlare il consigliere rena prego a facoltà grazie presidente giunta consigliere una comunicazione consigliere apro il punto numero all'ordine del giorno quindi ha chiesto di parlare il consigliere rena prego a facoltà presidente consiglio comunale di Mazzara ragioniere Vito Cancitano il sottoscritto consigliere comunale dottore Antonio Arena comunica la sua adesione al partito socialista italiano avvallata dal segretario comunale signor Francesco Ospedale e dal riferimento dell'omincia del PC l'onorevole Noddo i quali mi hanno spesso la fiducia e l'augurio di profigo lavoro insieme al consiglio comunale di Mazzara ringraziandovi per l'apprezzamento dimostrato e mi comunico che la mia nuova patenza politica non modifica il rapporto istituzionale con l'amministrazione comunale insieme al consiglio comunale rispettoso del ruolo e mandato assegnatemi dagli elettori di consigliere comunale eletto in lista con programmi e candidato sindaco diverso da quello in carica grazie a lei consigliere ci faccio avere questa nota non abbiamo verbali quindi dal punto numero 1 non c'è passiamo al punto numero 2 ha chiesto parla consigliere che è già intervenuto ho iscritto il consigliere Burzotta prego ne ha facoltà grazie presidente colleghi consiglieri giunta pubblico presidente allora oggi non parlerò di rifiuti perché in etinere ci sono alcuni risvolti e quindi non vorrei dare o fare delle conclusioni azzardate visto che ci sono delle riunioni anche in corso e quindi vorrei capire giustamente la tematica anche se quello che vediamo mezzo alle strade è vergognoso mi fermo lì più là darò il mio giudizio su questo presidente io mi vorrei soffermare su quello che il ruolo del consigliere comunale e su come l'ho svolto ad oggi penso di averlo svolto in maniera impeccabile penso di essere stato sempre propositivo penso di aver sempre segnalato le problematiche che attanagliano la nostra città vede è quando sento dire da parte di alcuni cittadini che lamentano di problematiche essere additato come uno dei mali di questa città mi fa rabbia perché lei mi è testimone con quanto impegno quanta certosina io abbia sempre segnalato le problematiche mi trovavo l'altro giorno di fronte al plesso una delle tante il plesso Paolo Borsellino qui in piazza Santa Veneranda dove c'è un bel pezzo di basolato davanti il portone della scuola che è sprofondato da più di 15 centimetri non gli dico le parolacce che mi hanno detto e lei sa quante tutto quello che ho fatto io in questo anno le segnalazioni dicendo sempre il centro storico e il basolato le conosco una per una queste e le ho sempre segnalato ebbene lì c'è un problema di sicurezza per i bambini ci passano 4.000 ragazzini al giorno 2.000 che entrano e 2.000 che escono con i relativi genitori con le persone che passano ma queste cose le vedo solo io o lo vedono solo chi mi critica o critica i consiglieri che magari fanno il proprio ruolo e segnalano queste cose io in tempi non sospetti avevo chiesto all'amministrazione di attivarsi con una squadra per segnalare le criticità più urgenti e quale cosa più urgente c'è della sicurezza dei bambini delle persone che passano in mezzo alle strade degli utenti ma stiamo scherzando io sono mortificato da questi atteggiamenti perché le persone hanno ragione dobbiamo salvaguardare l'impolumità del cittadino bisogna prendersi ognuno di noi le nostre responsabilità come le prendo io consigliere comunale che qui nella sede proposta faccio queste segnalazioni con questo spirito l'ufficio l'amministrazione chi è indicato a fare queste segnalazioni ce le deve fare presidente parliamo della sicurezza dei nostri cittadini perché io non permetto a nessuno di mortificare la mia intelligenza tutto quello che io ho fatto e continuo a fare per la collettività che sia ben chiaro presidente grazie la scuola è il testo Paolo Borsellino qui Santa Veneranda altre buche nel basolato sono presenti in via San Giuseppe in piazza della Repubblica in piazza Mocarta tutto il lastricato è di velto è da rifare tutto assessore tutto e non è la prima volta che io faccio queste segnalazioni e allora poi volevo parlare degli immigrati presidente io sono per l'accoglienza presidente lungi da me fare delle discriminazioni io faccio volontariato e quindi sono stato sempre da ausilio e alle persone bisognose agli estracomunitari a tutte quelle persone che hanno bisogno io sono per l'accoglienza però quando vedo gli immigranti fare il corteo con i bastoni in mano fermando le macchine un corteo non autorizzato presidente ci vogliono regole come le abbiamo noi cittadini mazzaresi ci impongono le regole e noi le rispettiamo così devono fare queste persone non si può permettere di bloccare l'attività di una città persone che portano i bambini a scuola essere minacciati con i bastoni ma li stiamo scherzando ma che siamo al terzo mondo ma penso che siamo in una città civile che i vigili che l'amministrazione si attivi con i canali giusti per fare la prevenzione un altro problema sempre legato agli immigrati presidente mi ascolti piazzetta friuli venezia e giulia c'è un centro immigrati mi dicono in quella piazzetta a Santa Maria di Gesù alle spalle di Santa Maria di Gesù c'è un centro per immigrati una casa privata e un centro per immigrati ebbene lì le persone non riescono più a scendere la sera a sedersi come si usa a Mazzara nella piazzetta a prendere un po' d'aria perché iniziano a giocare a pallone e prendono a pedate le sacinesche fino all'una le due le tre di notte ma che stiamo scherzando e magari se qualcuno li rimprovera succede quello che succede una persona non è più priva pagando le tasse essendo a casa sua liberamente di sedersi davanti all'uscio di casa con la moglie con le figlie perché magari rischia di essere aggredito bisogna dei controlli soprattutto vicino a queste strutture la ringrazio presidente grazie a lei consigliere Bruzzotta ha chiesto parlare al consigliere Langemi prego a facoltà grazie presidente signore della giunta consiglieri cittadini tutti vede presidente io ho presentato da un anno a questa parte tantissime interrogazioni devo dire in tutta onestà che non ho mai ricevuto nessuna risposta scritta questo non è il male peggiore perché neanche verbale comunque l'ho ricevuta quindi quello è il male peggiore ad ogni modo quando poi i problemi si risolvono indipendentemente dalla risposta mi ritengo soddisfatto e non faccio con una certa tranquillità i complimenti all'amministrazione comunale come ad esempio da discerbature alla pulizia straordinaria che è avvenuta nelle zone periferiche della nostra città cosa che non si faceva da anni e che adesso si è fatto io di questo mi complemento con l'amministrazione comunale c'erano erbacce c'erano arbusti c'era di tutto e di più la discerbatura che è stata praticata nella scuola elementare Santoro Bonanno l'assessore spagnolo nell'ultimo consiglio comunale diceva che era tutto a posto che le scuole erano a posto evidentemente se la discerbatura è stata fatta ora non era tutto a posto quindi cerchiamo di essere sinceri e onesti quindi io mi complemento per questi interventi che l'amministrazione ha fatto mi auguro che non sia solo per la gioia per l'euforia di avere una macchina nuova e scusate quindi mi complemento è un complimento sincero non lo dico così tanto per fare delle battute però debbo continuare a lamentare alcune cose io nell'ultimo consiglio comunale ho parlato ho sensibilizzato l'amministrazione comunale affinché si adoperasse per cercare di capire lo stato della provinciale Mazzara Torretta ho detto anche che non è di competenza di questa amministrazione comunale però evidentemente ne abbiamo interesse quindi è giusto che l'amministrazione si interessi e ci faccia sapere quello che si sta facendo o quello che non si sta facendo perché la gente deve sapere e non vogliamo arrivare ad una prossima estate e avere una strada pericolosa al buio dove tutti rischiano anche la vita perché di incidenti ce ne sono stati tanti poi torno a parlare anche di Piazzetta dello Scalo e continuerò a farlo tutte le volte che ne avrò la possibilità perché perché la prima settimana di settembre dopo una serie di interventi che sia io che altri miei colleghi e anche la commissione di competenza abbiamo sollevato tantissime criticità per quanto riguarda quella Piazzetta c'è stato un intervento successivamente quindi nel mese di settembre la prima settimana di settembre da parte dei carabinieri della stazione i carabinieri di Mazzara il sindaco successivamente dopo che i carabinieri avevano sequestrato un certo quantitativo di pesce chiaramente consideriamo il commercio abusivo come vengono come viene tenuto questo pesce quindi in uno stato veramente pietoso eppure la gente a volte per risparmiare l'acquisto quindi questo pesce a seguito di un'ordinanza del nostro sindaco è stato distrutto questo è un intervento importante perché si mandano dei segnali importanti non basta solo questo poi ho appreso degli organi di stampa che sarebbero creati altre situazioni come queste c'è nel senso delle operazioni congiunte anche con i vigili urbani per contrastare questo grave fenomeno dell'abusivismo inteso come commercio e del problema della discarica a cielo aperto che si perpetra continuamente in quella piazzetta e quando dico continuamente perché parlo anche di questa notte di oggi di ieri quindi non si è risolto il problema invito l'amministrazione ad intervenire e trovare le giuste soluzioni un altro problema grave sono tutte quelle aree della nostra città soprattutto quelle periferiche dove lì troviamo di tutto quindi aree che debbono essere necessariamente bonificate troviamo rifiuti pesanti quali lavabiancheria frigo divani spazzatura di ogni genere ma troviamo anche dell'amianto per esempio in via Napoli zona via California quindi il prolungamento della via Napoli è una strada sterrata dove lì c'è amianto è stato segnalato dai cittadini dai residenti all'amministrazione comunale l'amministrazione tempestivamente ha messo del nastro per delimitare la zona ha messo anche un cartello di pericolo purtroppo il cartello era di metallo e solo sono fregati quindi non c'è più nemmeno il cartello quindi io invito l'amministrazione a tenere presente questa cosa quantomeno a cercare di prendere provvedimenti per la segnaletica in quell'area per non parlare anche della sopra mi pare di avere appena iniziato Presidente forse non mi sono reso conto non mi sono reso conto già siamo a sei minuti grazie vado alla conclusione e quindi dicevo oltre a questo c'è anche sotto la sopraelevata un bel po' di amianto che va tolto capisco che andare a smaltire questo rifiuto speciale ha un costo però rispetto al danno che può fare l'amministrazione deve e dico veramente deve trovare le somme per togliere questo rifiuto pericolosissimo ne ho elencato solo due di zone di aree ma ce ne sono tantissime a Mazzara poi per concludere visto che ho parlato già abbastanza per concludere volevo accennare alla protesta degli immigrati che abbiamo potuto assistere il 28 settembre quindi appena ieri mattina io mi trovavo a passare da lì ho visto tantissime forze quindi le forze dell'ordine presenti chiaramente tutto era già passato ma mi è stato detto che ci sono stati momenti veramente critici dove rischiavano i cittadini i residenti in zona ma rischiavano perché era nell'orario diciamo più o meno all'apertura delle scuole ma rischiavano anche i bambini i bambini che frequentano quelle scuole ricordiamoci che lì traversa di via Castelvetrano ex albergo ci sono anche delle scuole io non sono contro questo tipo di intervento che si sta facendo in favore di questi immigrati assolutamente no però dico che le regole vanno fissate dico che bisogna attenzionare dico che bisogna andare a capire se questo tipo di manifestazione che queste persone hanno fatto corrisponde a dei fatti veri e propri oppure era solo così giusto per passare un po' di tempo io credo che dei problemi lì ci sono lamentavano il problema dei farmaci per potersi curare lamentavano il problema dell'alimentazione dell'abbigliamento io certo non credo che abbiano grosse pretese però il minimo è giusto darlo ma ad ogni modo attenzionare queste situazioni per la sicurezza e l'incolumità di tutti i cittadini e i residenti ricordiamoci che ci troviamo in pieno centro grazie presidente grazie a lei consigliere Cangemi a Cristo di parlare il consigliere la grutta prego grazie presidente un saluto ai cittadini che sono in aula all'amministrazione comunale presente e a tutti i consigliere comunali scoppia un incendio in Africa e mentre tutti gli animali della foresta compreso il leone scappano dalle fiamme a un certo punto in cielo un colibri porta una goccia d'acqua e il leone si ferma e dice ma che stai facendo non lo vedi che c'è il fuoco e il colibri io sto facendo la mia parte posso portare una goccia e la porto questo per dire che cosa che nonostante le difficoltà che sono tantissime nell'amministrare tantissime molte volte è semplice trovare la direzione capire qual è la direzione in questa emergenza rifiuti che abbiamo vissuto io penso che le priorità per tutti dovevano essere due prima la salute pubblica salute e igiene pubblica vanno tutelate tra l'altro ci obbliga a questo a questo rispetto la legge e invito tutti i consiglieri comunali a legge del testo unico di entro locali l'articolo 141 e 142 obbligano il sindaco e il consiglio comunale a tutelare la salute pubblica perché sindaco amministrazione e consiglio comunale sono insolito responsabili della salute pubblica cittadina e questo è un fatto seconda priorità la gente che lavora deve essere pagata la costituzione lo dice c'è un articolo della costituzione che sancisce che chi lavora ha diritto a percepire il reddito da lavoro perché è vitale e se da cinque mesi gli operai della bevola ambiente dipendenti quelli mazzaresi non percepiscono stipendio quella diventa la priorità numero due fatte chiare queste due priorità tutta la classe politico burocratico amministrativa di questo paese doveva convergere solo e unicamente verso queste due priorità dopodiché possiamo trovare tanti ostacoli nel percorso i pignoramenti bene i pignoramenti e l'impossibilità di pagare vanno affrontati non all'ultimo secondo ci vuole volontà ci vuole competenza ci vuole comprendere che dal 2005 a oggi la bevice ambiente la gestione della bevice ambiente ha determinato un debito enorme che ha fatto scaturire anche i pignoramenti la responsabilità ma ci sono responsabili di questo debito quindi quando a un certo punto e quello che ho fatto mi presento alle riunioni invece ambiente non da sindaco cioè alla riunione dei sindaci con i sindacati anche con la gestione commissariale quando mi presento e ascolto delle cose che qui non pronuncerò perché ho fatto richieste di accesso agli atti e mi premurerò di avere il verbale di modo che quello che c'è scritto riferendolo avrò una pezza d'appoggio evitare di sbagliare però ho ascoltato delle cose e allora le domande poi vengono e sorgono spontanee una classe responsabile una classe politica amministrativa responsabile affronta la questione del debito e fa i conti perché se faccio bene i conti e se li faccio in tempo non mi trovo nelle condizioni di dover dire poi ai miei cittadini questa è una situazione in cui non si sa come uscirne ma come non si sa come uscirne te ne esci facendo i conti due più due fanno quattro ho delle fatture da dover pagare ho dei pignoramenti in essere ma se ci avessi pensato prima probabilmente se avessi certificato i debiti di tutti i pignoramenti e quindi chiamo in causa anche anche il liquidatore il liquidatore della bellezza ambiente aveva degli obblighi precisi apprendo che apprendo da tempo lo so che ci sono che ci sono praticamente i bilanci della gestione liquidatoria non approvati l'ultimo bilancio è scritto anche nei documenti che dobbiamo affrontare oggi nel congi comunale di oggi l'ultimo bilancio del 2012 e allora se il compito di chi deve liquidare i debiti è quello di certificarli fare un bilancio appena mi inserio faccio un bilancio e verifico per tutti i comuni dopo tutto che verifico per tutti i comuni così come è successo per Mazzara che se paga 2 milioni rotti di euro libera gli altri comuni se tu certifici quel debito ti accorgi che dagli altri comuni che hanno pagato anche tu hai dei debiti che non devi più pagare perché chi fa un pignoramento e pignora le casse comunali di 11 comuni chiaramente 2 milioni di euro per 11 fanno 20 e 8 milioni di euro eppure il debito è 2 milioni di euro ora se la classe politica si riunisce e lì sta il dialogo la cosa che ho lamentato la cosa che ho lamentato è la mancanza di dialogo non ci si può assentare dalle riunioni del cda della brice ambiente non si può riscontrare l'assenza l'assenza del comune di Mazzara del Vallo e poi è normale che poi mancando il dialogo non si riesce più a affrontare le cose per bene e il dialogo sono convinto che ci porterebbe a comprendere a capire che la direzione che abbiamo intrapreso fino ad oggi è una direzione sbagliata perché se arriva se arriva come dire un'anomalia per quanto riguarda il conferimento in discarica Presidente io chiedo un po' di silenzio in aula grazie se arriva il problema del conferimento in discarica chiaramente siamo in tilt ma se adottiamo la strategia rifiuti zero che vi ricordo che la fanno in America in un posto dove ci sono non 50.000 abitanti non 60.000 abitanti ma 800.000 abitanti se lo fanno là perché non lo dobbiamo fare noi lo fanno in tanti comuni italiani se io applico la strategia rifiuti zero riutilizzo riuso se comincio a fare questa cosa io la spazzatura indifferenziata non me la trovo per strada perché solo una piccola parte va gestita con discarico e inceritori ora possiamo anche pensarla come vogliamo ma mi fa ribrezzo vedere la spazzatura per strada tanto quanto mi fa ribrezzo vedere la spazzatura nelle campagne nelle discariche quindi il genere umano ha gestito malissimo questa cosa malissimo perché la differenza è solo nella distanza ma la distanza arriva perché le discariche col percolato possiamo farle più tecnologicamente avanzate possibili portano alla fine quell'inquinamento lo portano a casa mia nel rubinetto di casa mia quando provo a bere a bollire l'acqua e allora la direzione è sbagliata invito tutti quello che è successo ci deve dare una grandissima lezione una grandissima lezione invito tutte a riflettere e il presidente le anticipo che chiederò in ordine dei lavori lo spostamento di un punto l'anticipazione di un punto all'ordine del giorno appunto la mozione sulla strategia rifiuti zero chiederò di metterlo subito ai voti e di anticipare possibilmente questo punto di modo che il consiglio comunale per quello che gli compete fare visto che è un organo anche di indirizzo politico gli diamo a chi amministra questo indirizzo politico il consiglio comunale vuole la strategia rifiuti zero e cortesemente chi ha compiti gestionali vada in tutti i tavoli a chiedere l'applicazione della strategia rifiuti zero grazie consigliere Agutta per la conclusione perché abbiamo finito lo capisco se mi concede solo 30 secondi e finisco perché c'era un'altra situazione che ha sempre attinenza con il dialogo sappiamo che il piano inerente alla sanità provinciale il piano ASP che è stato come dire discusso dibattuto è approvato nella sede dell'ASP e poi arriverà in regione alla commissione regionale per il voto mi sono arrivati mi sono permute delle segnalazioni da parte di personale medico di questo paese che ha rilevato in quel piano alcune cose che si potevano migliorare ora se l'assessore Billardello che è andato come delegato da parte del comune a dare il suo assenso a questo piano se avesse fatto per tempo come dire squadra con tutti quanti i mazzaresi ma non solo con i mazzaresi operano nel settore probabilmente certe disfunzioni non sarebbero in essere ora occorrerà e mi farò carico di questo attraverso il gruppo del Movimento 5 Stelle all'ARS di ovviare a quello che qui non è stato segnalato adeguatamente e mi riferisco al reparto di radiologia e anche ad altre situazioni che poi casomai dirò strada facendo grazie grazie a lei consigliera Grutta ha chiesto di parlare al consigliere Foggia prego ne ha facoltà grazie presidente colleghi consiglieri amministrazioni cittadini inizio a parlare innanzitutto della questione ospedale visto che il consigliere Lagutta ha citato il problema del nostro nosocomio io parto dal presupposto siccome non ci deve essere un interesse personale per quanto riguarda la salute pubblica non penso che l'assessore Billardello doveva chiedere qualcosa ai dottori o qualche suggerimento doveva solo eventualmente confermare tutto quello che era stato deciso cinque anni fa dall'assessore alla sanità Massimo Russo con l'impegno dell'amministrazione comunale a mantenere certi reparti come il reparto nascita io dico che il riferimento alla partecipazione alla conferenza dei sindaci riguardante l'approvazione del nuovo assetto organico ospedaliero che riguarda soprattutto la nostra città perché io parlo della città di Masata e del Vallo tra l'altro votato ad un'animità io ho molte riserve voi sapete chi è consigliere comunale che è stato rieletto sa e comunque tutti i cittadini sanno che Mazzara a Mazzara si è deciso di portare il polo oncologico d'eccellenza ebbene questo polo oncologico d'eccellenza non esiste più cosa è cambiato? l'assessore Massimo Russo insieme all'amministrazione comunale e all'ex assessore alla sanità della città di Masata e del Vallo che adesso non mi ricordo il nome l'assessore Asaro avevano deciso che il polo oncologico insieme a De Nicola d'eccellenza doveva essere a Mazzara adesso si parla di un'oncologia semplice spostando tutto verso l'ospedale di Trapani noi non siamo succursali a Trapani noi abbiamo gli stessi diritti dei trapanesi mi ricordo cinque anni fa si è fatta una petizione popolare dove al capo c'era il vice sindaco Silvano Bonanno il consigliere Foggia la consigliera Lestra insieme agli operatori del settore insieme al dottor Rubino e altre persone che più ne ha più ne metta a raccogliere le firme a difesa della radioterapia a Mazzara del Vallo a difesa della radioterapia a Mazzara del Vallo abbiamo raccolto circa 9.000 firme perché Trapani si voleva appropriare di quella radioterapia ora vengo lì e mi spiego vengo a sapere che il polo oncologico d'eccellenza diventa un'oncologia semplice questo non lo permetto quindi non dobbiamo fare nessun comunicato stampa perché siamo stati bocciati siamo stati declassati se con l'oncologia d'eccellenza Mazzara decollava adesso possiamo dire che abbiamo fatto tre passi indietro la struttura è bella la possiamo pure andare ad inaugurare però non consento che comunque i cittadini mazzaresi vengano bocciati la salute è pubblica ed è di tutti e va tutelata quindi cara amministrazione comunale non sono d'accordo sul voto all'ononimità per quanto riguarda il nuovo assetto dell'ospedale di Mazzara del Valle non sono d'accordo perché abbiamo lottato tutti insieme per fare emergere l'ospedale che per anni era stato abbandonato dalla politica quando abbiamo trovato l'assessore che ha trovato delle somme per quanto riguarda il nostro nostro domo per farlo diventare un ospedale di serie A adesso siamo di serie D che facciano la relaterapia che facciano la diagnostica tacchi petti RX la chirurgia oncologica non semplice di eccellenza voglio ammazzare le eccellenze voglio ammazzare le migliori professionalità non attrapano a Casselvetrano di che cosa stiamo parlando e ne parlo perché la sento questa tematica attenzione perché io so cosa significa poloncologico di eccellenza e ne parlo perché l'ho vissuto sulla mia pelle io andavo a Palermo a fare idoterapia ogni giorno e perché non lo possono fare i mazzaresi a Mazzara e devo andare sempre a Palermo quando l'assessore aveva fatto un disegno bene per quanto riguarda la Mazzara del Vano adesso di cosa ci preoccupiamo l'ortopedia che è un'ortopedia semplice e bene ci stava nell'assetto già era deciso così però ne faccio un problema più per la città quindi cari cittadini svegliamoci perché su questo problema si erano fatti pure cortei e dall'ex sessore Massimo Russo era stato deciso che il poloncologico d'eccellenza era a Mazzara ma insieme al direttore De Nicola che è lo stesso direttore dell'ASP che comunque ricopre il ruolo adesso quindi non sbanderiamo perché non abbiamo ottenuto niente ci hanno tolto siamo rimasti un semplice ospedale e la struttura non lo merita ma soprattutto i cittadini mazzarese non lo meritano detto questo cambio argomento e chiedo scusa per il tono poco fa ho ascoltato alcuni consiglieri comunali che hanno parlato sull'amministrazione comunale per quanto riguarda alcune problematiche della città irrisolte si parlava di potature si parlava di scerbatura io dico se comunque quando si fanno degli interventi dobbiamo colpire tutte le classi che hanno delle responsabilità dobbiamo parlare anche con i dirigenti sia comunali che scolastici perché per quanto riguarda la pulizia ordinaria non la pulizia straordinaria attenzione la pulizia ordinaria noi in guardia di comune ogni anno elargiamo delle somme ai dirigenti scolastici per fare quel tipo di intervento se eventualmente la discerbatura non viene fatta vi posso garantire che la responsabilità non è dell'assessore spagnolo la responsabilità è del dirigente scolastico per quanto riguarda il lavoro ordinario se poi parliamo di lavori straordinari allora gli diamo responsabilità all'amministrazione comune ma non solo anche ai dirigenti perché i dirigenti non se ne parla mai e non so perché Presidente le chiedo scusa anche i dirigenti perché magari sono cose di poco conto e sorvolano montano di poco conto adesso il prossimo anno sarà magari una crepa dove ci sarà un impegno economico più importante e ci deve essere quindi dico prevenire è meglio che curare a questo punto è giusto parlare anche con i dirigenti ma quando si accusa l'amministrazione e soprattutto poi si vanno a accusare pure i consiglieri comunali se si impegnano per la collettività o per la città lì non ci sto a quei consiglieri comunali che fanno una cosa del genere e dicono che si devono vergognare io dico che si devono vergognare e se siano opposizione o maggioranza me ne sto fregando perché la politica bisogna farla in maniera costruttiva se si sa fare non si può guardare l'operato di un consigliere comunale eventualmente chiedersi quello che non fai tu quello che non fai tu per la città se Francesco Foggia parla con l'amministrazione comunale cerca di dialogare lo fa l'interesse della collettività perché non vado a chiedere posti di lavoro a nessuno l'amministrazione lo posso garantire a tutti vado a chiedere solo di pulire Via Potenza Borgata Costiera Mazzara Mazzara 2 è che non è legittima questa cosa quello che non fate voi e parlo con chi comunque si è permesso di criticarmi se faccio un comunicato stampa o meno vergognatevi segnatevi io non glielo permetto di fare questa sua affermazione consigliere comunale Presidente io le chiedo scusa consigliere Foggia lei non si può permettere quindi vado alla conclusione gentilmente però è pure vero che non posso comunque ascoltare alle spalle tutto ciò che fa un consigliere comunale poi sarà la città comunque a decidere se prendiamo il problema di consigliere comunale quindi non critichiamo gli altri colleghi consiglieri gentilmente vado alla conclusione eventualmente dovrebbero rimproverare chi si permette di rimproverare io rimprovo tutti a tutta la del consigliere comunale quindi Assessore Mandaleone alla conclusione noi ci dobbiamo prendere cura dei disabili così magari qualcuno non parla Assessore Spagnolo non ci dobbiamo prendere cura delle scuole così qualcuno non si lamenta più Assessore Silvano Bonano le chiedo scusa se magari chiamo qualche portaleo o pagare ogni giorno per pulire a destra a banca o di sfumare il problema idrico eccetera eccetera non bisogna farlo questo perché dà fastidio a qualche politico grazie e questo mi dispiace fate la conclusione ho già sforato il suo tempo a disposizione lo so Presidente e io la ringrazio per la sua disponibilità non era uno sfogo naturalmente rivolto a tutti i consiglieri comunali a quei due o tre consiglieri comunali che sono i nomi e che me lo tengo per me e non è neanche per lei Presidente per la sicurezza Presidente che copre lei lo sa cerco di mantenermi sempre nei canoni nel rispetto delle regole ma a volte mi sembra opportuno perché io sono una persona abituata a dire le cose in faccia di chiedere non parlo mai è la mia natura posso essere pure non apprezzato ma io sono fatto così chiedo scusa ringrazio l'amministrazione comunale ringrazio il consiglio comunale e chiedo scusa ai cittadini una cosa è certa Francesco Foggia voterà sempre tutto con coscienza grazie grazie a lei il consigliere Foggia ha chiesto di parlare il consigliere Andazzo prego una facoltà Presidente potrò sembrare scortese quest'oggi ma nel concedermi la parola non la ringrazierò non la ringrazierò perché l'articolo 53 del nostro regolamento sui lavori consigliari prevede che ogni consigliere comunale ha diritto a comunicare e presentare interrogazione all'amministrazione durante il primo punto all'ordine del giorno oggi Presidente amministrazione cari colleghi consiglieri comunali così per conoscenza mi piacerebbe dare un tocco di democrazia a questo consiglio comunale parlando del concetto di libertà scusate se mi accingo a leggere per la libertà sul concetto di libertà possiamo dare diverse nozioni una filosofica c'è chi dice che la libertà non sta nello scegliere tra bianco e nero ma nel sottrarsi a questa scelta possiamo prendere anche una nozione dal dizionario della lingua italiana si intende per libertà la condizione per cui un individuo può decidere di pensare esprimersi ed agire senza costruzioni ricorrendo alla volontà di ideare e mettere in pratica un'azione mediante una libera scelta dei fini e degli strumenti che ritiene utili a realizzarla poi abbiamo cari colleghi una concezione giuridica di libertà al quale tutti ci dobbiamo attenere e al quale la nostra Costituzione rimanda in maniera ferrea e rigida ovvero alla dichiarazione universale dei diritti dell'uomo consigliere silenzio per favore all'articolo 19 si recita così ogni individuo ha il diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione detto questo anche i nostri padri costituenti hanno pensato alla libertà ritiamando tale dichiarazione e se l'hanno fatto non è perché da bambini si sono messi a giocare a battaglia navale non l'hanno fatto per questo l'hanno fatto perché hanno vissuto in prima persona la guerra hanno vissuto la più grande umiliazione che l'uomo abbia potuto nei secoli mettere in pratica quale la dittatura hanno vissuto il terriore di quei periodi ripetita juve antipresidente lo dico così per arricchire questo cosio comunale si dice che le cose ripetute possano giovare a qualcuno detto questo grazie per l'attenzione di tutti i colleghi intanto io non voglio essere ripetitivo ma non posso che riallacciarmi a un argomento che per mesi e ho continuato fino a questa mattina ho trattato in quest'aula sui giornali e tra i cittadini il problema dei centri di accoglienza e sotto gli occhi di tutti quello che è accaduto nei giorni scorsi lo sapevamo ebbene sì qualche mese fa fui addirittura io a lanciare un allarme che il mancato controllo il mancato interesse da parte delle istituzioni che contano e che hanno l'obbligo di vigilare in materia potesse far sfociare in situazioni pericolose per come abbiamo assistito ieri scendo nello specifico un gruppo di migranti richiedenti asilo ospitati da un hotel a quattro stelle un'ex struttura alberghiera come il Ruggero II è sceso per le vie della città manifestando alcuni diritti vestiario un'alimentazione dei pasti più idonei è come se non bastasse un intervento più celere nel fornire i documenti loro necessari per lasciare il nostro paese questo la dice lunga su quello che sta diventando questa città e la dice lunga perché ripeto giorno dopo giorno nonostante la mancata volontà dei cittadini a recepire questo apporto così massiccio di migranti in questa città non si fa altro che aprire centri di accoglienza da un lato vengono meno le strutture a verdiere da un lato vengono meno immobili come immobili dall'altro si autorizza costantemente l'apertura di centri di accoglienza mi si dirà non è competenza del comune può darsi ma di certo è l'ufficio tecnico a dare i pareri su queste strutture ora io visto che è sotto gli occhi di tutti la situazione attuale visto che la popolazione è fortemente allarmata su questo problema visto che da più parti nonostante interrogazioni articoli di stampa comunicati eccetera eccetera non si pone rimedio a questo problema io chiedo all'amministrazione di intervenire politicamente sappiamo benissimo che colui il quale autorizza in via straordinaria con determinati provvedimenti l'apertura di queste strutture con la destinazione di un numero ben preciso di migranti e il prefetto è allora che si adopere il nostro sindaco con il suo peso politico con la propria autorevolezza affinché il prefetto possa destinare migranti non solo a Mazzara del Vallo perché Mazzara del Vallo non ne può più di ospitare immigrati da più parti del mondo e vi sembra normale che una cittadina di 50.000 abitanti sia arrivato al punto da ospitare più di 500 migranti e ciò dovrebbe allarmare ancora di più dato la collocazione geografica di queste strutture ricordiamo che tutte queste strutture sono sorte negli ultimi tempi in prossimità di scuole in prossimità di quartieri popolari in prossimità di quartieri ben noti per la loro mancanza di sicurezza in quartieri in cui la micro criminalità organizzata in questa città ha delimitato il proprio territorio e nonostante il forte allarmismo che c'è tra la popolazione e nonostante i reati si consumino così alla luce del giorno nessuno prende alcun provvedimento presidente io per una volta vorrei diciamo ascoltare le ragioni di questi migranti e per come ho fatto per altre tematiche riguardanti i problemi di questa città anticipo al consiglio comunale alla cittadinanza tutta e all'amministrazione che domani fornirò all'ufficio di presidenza una richiesta di accesso agli atti ai sensi dell'articolo 27 del regolamento sui lavori consigliari perché la città deve sapere chi sono queste società la città deve sapere chi sono queste cooperative la città deve sapere chi sono queste associazioni la città deve sapere a quali riferimenti politici apportengono tutte queste strutture e in più non mi limito a questo se competenza dell'amministrazione l'ufficio tecnico o solidarietà sociale chi per loro mi deve fornire il dettaglio dei costi che sostengono queste strutture perché non è possibile che nonostante circa 70 euro al giorno un povero migrante debba reclamare il vestiario decente e del cibo per un essere umano dotato di dignità come tutti quanti questo mi aspetto dell'amministrazione e se posso visto che fino ad oggi non appartengo al partito comunista ma appartengo al partito di fratelli d'Italia alleanza nazionale che ha a cuore le sorti le sorti dei migranti e ha a cuore tematiche del genere tanto da farne tanto da farne battaglie parlamentari a più non posso insieme ad altri partiti sollecito buonariamente amichevolmente il mio capogruppo a prendere provvedimenti in materia per come si fa in tutti i comuni d'Italia grazie grazie consigliere Andazzo ho chiesto di parlare il consigliere Gargiola prego a facoltà del presidente amministrazione colleghi consiglieri in effetti non ero propenso ad intervenire perché mi piaceva ascoltare i colleghi sul dire e sul fare della seduta odierna però apprendo da qualche consigliere qualche notizia che mi mette in preallarme e sono tre punti su cui spero nei cinque minuti di volere essere puntuale e cioè parliamo del piano del piano ASP su quanto è stato deciso all'unanimità giorni fa a Trapani per trasferire o che venga trasferito il reparto di radiologia siccome io so con quanto ardore con quanto soledità l'amministrazione ha lavorato su questo piano su questo piano sanitario chiederei all'amico all'amico vice sindaco Silvano Bonanno di volerci di voler essere ancora una volta più 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 presente nel darci una risposta su quanto si è deciso l'unanimità io credo che la notizia che ho avuto mi auguro che non sia che non sia veritiera che il nostro rappresentante abbia votato all'unanimità il trasferimento di radiologia a Casalvetrano quando penso che sia uno dei migliori reparti della nostra della nostra provincia e mi auguro del prossimo assetto organico sanitario questo è uno non vuole essere un appunto ma vuole vorrei avere un chiarimento un chiarimento su quanto magari decidono decidono sulla nostra città siccome anch'io mi diletto a dire che avremo il migliore sicuramente il migliore ospedale della nostra provincia mancare un reparto come quello della radiologia mi farebbe male primo punto prendo spunto di quanto detto dal collega Cangemi e credo credo che l'assessore Bonanno abbia lavorato molto e ci sono pure i risultati gliene do atto sull'abusivismo che c'è però sulla piazzetta dello scalo l'assessore Bonanno gli dico sinceramente perché sono un operatore del settore e forse nessuno più di me può avere un'ampia pianta su quanto succede ogni mattina io dico ogni mattina lì diventa mattina per mattina diventa una pattumiera una pattumiera che va disinfettata mattina per mattina perché quello che lasciano questi immigranti quello che lasciano gli abusivisti lei non ne ha idea so che lei si è adoperato e si ripeto ancora una volta se sono vici i risultati di questo gliene do atto però dico che dovremmo essere in questo momento che ancora abbiamo qualche turista nella nostra città più presenti nella piazzetta dello scalo e guardare dare un po' più di attenzione se avremo la fortuna di avere qualche vigile urbano in più sull'abusivismo nella nostra città perché è diventato una città di abusivismo di meloni in questo momento in qualsiasi posto della città meloni e carrettine con il pesce con il pesce sopra sappiamo che il pesce ha bisogno di essere salvaguardato sotto il profilo sanitario e poi abbiamo le conseguenze subendo subendo le malattie nella nostra città io do terzo punto do atto e mi complimento con l'amministrazione non entro nel merito su come è stata gestita la situazione di belice ambiente non entro nel merito ma dovrei fare complimenti sulla rapidità per come è stata è stata però una cosa assessore Bonanno mi dispiace che lei abiti lì o che io abiti da quelle parti va salvaguardata in questo momento Tonnarella perché la nostra città è ancora piena di turisti e le dico io che la via del mare la via Bessarione Tonnarella non se ne può già che abbiamo iniziato avete iniziato a fare questo tipo di lavoro io dico di attenzionare di più quella che è la parte dove c'è la pizzeria Bistrò che ci sono ho calcolato 300 metri di spazzatura accumulata nei giorni scorsi se lasciamo stare un po' la via Castelvedrano o la via Lungomare e ci avviciniamo anche a Tonnarella che risulta risulta un ambiente turistico sicuramente la città negatirebbe ma soprattutto quelli che vanno la sera a mangiare una pizza o a farsi una passeggiata a Tonnarella non stendono quella puzza che vi è in quel posto grazie Presidente Signor Presidente con i consiglieri giunta cittadini mio Presidente l'altro giorno ho inviato delle cartoline di Mazzara a tanti amici che sono sparsi per il mondo quindi cartoline da Mazzara del Vallo e come dire in queste cartoline ovviamente non sono cartoline che vendono le cartoliberie ma sono cartoline stampate da me con delle foto che ho fatto alla città in questi giorni si evidenziava lo spettacolo della nostra città cartoline da Mazzara del Vallo la capitale del Mediterraneo avvicino a tutto questo c'era un cumulo di rifiuti ovunque 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 in tutta la città quindi come dire un plauso va fatto all'amministrazione comunale perché è riuscita come dice il consigliere Incaggiola in tempi brevi a pulire la città perché i turisti che sono nella nostra città probabilmente i turisti dicono ma dove siamo in Tanzania o siamo in una città dell'Europa perché neanche in Tanzania o nel Burundi queste cose accadono io penso una cosa signor Presidente penso che l'arroganza del potere da qualsiasi parte venga manifestata non paga mai e soprattutto non vengono come dire rispettati i cittadini l'arroganza porta a queste cose l'arroganza dello scontro fra due posizioni entrambi dal mio punto di vista arroganti ha portato allo scontro e ha portato al disastro di questa città finalmente davanti al prefetto si è certa si è certa che il comune di Mazzania del Vallo deve pagare Berici Ambiente perché è stata una delle condizioni che ha consentito la riapertura della discarica quando si sosteneva questa amministrazione sosteneva che non doveva nulla Berici Ambiente quando Financo fino all'altro giorno non ha ricevuto neanche le quattro fatture emesse da Berici Ambiente ma dico io com'è possibile che si arriva a questo punto ecco perché dico l'arroganza del potere non porta a nulla di buono a nulla di buono si è sostenuto in questi giorni che non si doveva nulla Berici Ambiente ma com'è possibile dire queste cose e poi di fronte alla proposta della commissaria Alfano di come dire realizzare il servizio attraverso una procedura di nolo a freddo spieghiamo ai cittadini cosa significa nolo a freddo nolo a freddo significa andare a noleggiare dei mezzi soltanto i mezzi e il personale utilizzato sarebbe stato quello di Berici Ambiente questa amministrazione ha detto no ha detto no perché al loro dire era la proposta fatta un anno e mezzo fa da questa amministrazione e allora il commissario di allora non certamente la dottoressa Alfano ha rinunciato certo c'è da capire c'è da capire con tutte queste procedure ex articolo 191 come andrà a finire perché vorrei ricordare che la procedura ex articolo 191 che ha adottato questo comune è una procedura straordinaria che in questa città straordinaria è diventata ordinaria c'è un'anomalia che è davvero incomprensibile e vorrei vedere voglio capire questi provvedimenti ex articolo 191 da chi sono stati sottoscritti se il dirigente ingegnere Bonaiuto ha sottoscritto questi provvedimenti perché se non lo ha fatto evidentemente c'è qualcosa di molto grave non ho avuto tempo signor Presidente ma lo farò da domani in poi andrò a verificare queste procedure ex articolo 191 se portano la firma del dirigente o se non la portano perché ho l'impressione che la Corte dei Conti prima o dopo arriverà e siccome si parla di provvedimenti di milioni di euro voglio vedere chi sarà colpito e informo i cittadini anche che le bollette della TIA del 2015 saranno quantomeno raddoppiate per un semplice motivo perché noi nel frattempo abbiamo pagato ex articolo 191 la ditta privata che fa il servizio ma non dimentichiamo che dobbiamo sempre pagare brecce ambiente quindi pagheremo i due servizi e pagheremo chi pagherà pagheranno i cittadini signor Presidente ecco perché dico l'arroganza porta sempre al disastro l'arroganza del potere porta al disastro e questa volta come ogni volta del resto il disastro sarà a carico di cittadini a carico di cittadini quindi ricordiamo i cittadini cartonina da Mazzata del Vallo capitale del Mediterraneo voglio finire signor Presidente con una notazione che riguarda gli scuolabus mi dispiace che non c'è assessore spagnolo ma c'è assessore buonanno ed è un interlocutore attendibile la domanda che faccio io a questo consiglio comunale al Presidente del Consiglio e la volevo fare anche all'amministrazione da quanto tempo è che non si lavano gli scuolabus da quanto tempo non si infestano gli scuolabus è una domanda a cui vorrei una risposta perché dico questo perché l'autoparco che è il luogo dove sistematicamente venivano lavati gli scuolabus è come dire come l'autoparco è chiuso è inagibile quindi di fatto i nostri figli viaggiano su mezzi che non vengono disinfestati che non vengono puliti che non vengono lavati che non vengono lavati e aggiungo di più questi mezzi sono stati utilizzati durante qualche mi sembra non sono sicuro ma mi sembra che sia così che siano stati utilizzati a sottotitoli di buonanno mi smentisca se dico una sciocchezza che siano stati utilizzati quando per esempio c'è stato qualche sbarco per trasferire per trasferire i migranti e vorrei sapere se questo è vero e soprattutto se è vero o non è vero che successivamente a questo intervento gli scuolabus non siano stati disinfestati ecco è una domanda che opponga l'amministrazione a cui vorrei che venga andata una risposta comunque mi risulta per certo che gli scuolabus cittadini dove i vostri figli ogni mattina salgono da andare a scuola non vengono lavati grazie signor presidente grazie a lei consigliere Mauro non vedo consigliere Danibola prego grazie signor presidente giunta egregi colleghi signor presidente il mio cognome che cosa le ricorda io penso che a tutti il mio cognome ricordi il famoso panino piuma tanto amato della nostra città che veniva gustato lo sa come con la mortadella quindi la gente intelligente è solita mettere la mortadella in mezzo al panino io mi rendo conto che l'opposizione quando si parla di belice ambiente e quindi quando bisogna screditare l'operato dell'amministrazione agli occhi della collettività preferisce mettere la mortadella sugli occhi e l'idiozia e la faziosità sulla punta della lingua questo è quello che penso perché non è concepibile da stacanovisti della politica di soggetti attenti a spulciare ogni singola carta di questa amministrazione che non ci si preoccupi di andare a valutare nel dettaglio quelli che sono stati gli atti compiuti da questa amministrazione per evitare il pericolo dell'insorgenza igienico-sanitaria quelle che ho sentito dire in quest'aula sono delle pure semplici illazioni forse non lo so per quale motivo se non quello realmente di voler buttare fango sull'operato di questa amministrazione ebbene le attività compiute dal nostro sindaco e da tutta la sua giunta e da tutti i suoi collaboratori al fine di evitare l'insorgenza igienico-sanitaria sono state molteplici solo che tutto questo è stato compiuto in un silenzio totale da parte delle istituzioni da parte del prefetto che anziché tutelare la nostra cittadinanza ha preferito lavarsi le mani dinanzi alla situazione igienico-sanitaria che insorgeva a Mazzara ebbene per quanto riguarda i conti di Belice Ambiente il commissario d'acta è venuto a certificare questi conti ed è lo stesso commissario che è stato nominato dalla Regione e quindi il debito che la commissaria Sonalfano riteneva di dover pretendere da Belice Ambiente per un importo pari a 1.800.000 euro in realtà era un importo pari a 500.000 euro le cui somme erano accantonate a seguito dei pignoramenti per quanto concerne un altro aspetto fondamentale il nostro sindaco e la sua giunta e i soggetti preposti non si sono mostrati arroganti nel rigettare le fatture perché vorrei dire al consigliere che mi ha preceduto che adesso c'è una nuova normativa sulle fatture quindi nel momento in cui le fatture vengono accettate è come se venissero coetanzate le fatture non sono state rigettate le fatture sono state contestate perché la Belice Ambiente nella persona del commissario Alfano ha posto all'interno di quelle fatture dei servizi non resi quindi conseguentemente il comune non può pagare 4 autocompattatori così come pretende la commissaria Sonalfano quando in realtà i compattatori in servizio erano stati soltanto 2 la nostra amministrazione non può pagare il lavoro di 10 operatori così come pretende il commissario Sonalfano quando gli operatori a Mazzara del Vallo sono stati soltanto 3 quindi che cosa vogliamo cagionare un danno all'erario in più il fatto sa qual è egregio consigliere che mi ha preceduto che purtroppo Mazzara forse per il peso straordinariamente politico che riveste il nostro sindaco è stata penalizzata è stata penalizzata sotto questo aspetto e si è preferito classificare i cittadini di Mazzara e del resto anche gli stessi operai di Mazzara del Vallo come cittadini di serie B nel silenzio totale e assente delle istituzioni grazie a lei consigliere D'Annibale non vedo consigliere Rina prego consigliere la grutta lei già ha parlato consigliere la grutta lei intanzitutto deve dire che cosa 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 è questo fatto personale io non ho sentito nessun cognome nessun nome lei non ha sentito perché era distratto non ho sentito mi dica qual è il suo fatto personale le ripeto il fatto personale è che da questa parte i consiglieri comunali non fanno illazioni e non dicono idiozzi assolutamente se qualcuno pensa che a questa parte si dicono illazioni o si raccontano idiozzi allora io posso dire che il ruolo del consigliere comunale è guardare le carte quindi guardare le carte ma non dire che gli altri pronunciano illazioni consigliere Dina prego quindi io chiedo a lei di mettere consigliere Dina prego allora io non avevo niente da da dire nelle comunicazioni e interrogazioni però come dire sono stato tirato dalla giacca dalle affermazioni del consigliere che mi ha preceduto perché non sono mai venuto in questa aula con né molta lale nel prosciutto negli occhi non ho fatto mai come opposizione illazione ho detto idiozia certo un'idiozia ora la voglio dire così tanto in ogni caso è stata certificata da qualcun altro in questi giorni Mazzara ma è successo già negli ultimi anni negli ultimi periodi è stata invasa dai rifiuti dove tra due contendenti forse a tutte e due con i paraocchi e non voglio usare altre affermazioni più gravi chi ci ha perduto e ci ha perso sono i cittadini mazzaresi perché in questa lotta fra due persone che ognuno per la propria parte vuole essere vincitore c'è stato chi ha perso questa partita ed è stata la città di Mazzara tutta io una cosa mi lamento dei cittadini mazzaresi che non hanno più un poco di coscienza civica perché in questi giorni l'unica cosa che devono fare i cittadini mazzaresi anziché lamentarsi soltanto con i consiglieri che camminavano per strada era prendere tutta l'immondizia e portarla in questa sede così come si fa in tutte le città civili noi non possiamo subire due persone che per loro non so tornacotto per quale motivo non ci voglio più entrare portano e riducono la città per come è stata in questi cinque giorni altro che celere altro che tutto perfetto ci sono zone nella città che ancora non si può avvicinare per la puzza tutto fatto tutto perfetto e alla fine che cosa esce da questa battaglia titanica si riapre la discarica il comune deve pagare ma tra due persone di buon senso c'era bisogno di arrivare a questo punto lasciando perdere chi ha ragione e chi ha torto gli unici che hanno ragione sono i cittadini mazzesi che pagano un servizio che non viene reso certo è strano alla fine capire che siamo stati forse uno dei pochi delle poche città della Sicilia che stanno pagando dei debiti degli ato è strano è strano perché se io comune pago i debiti dell'ato precedenti sicuramente a questa commissaria perché non posso capire non posso mai pensare se non c'ho prosciutto e bortadale negli occhi che tutti questi danni sono gli ultimi 6-8 mesi quindi i danni vengono da prima e non diciamo chi è stato più bravo e chi è stato più cattivo i danni vengono da prima ma se noi paghiamo soltanto i pignoramenti a queste persone che lavorano i soldi chi gliele deve dare chi gliele deve dare perché qualcuno poi li deve pagare questi lavoratori se arrivano pignoramenti per 5 milioni per 6 milioni e noi siamo obbligati a pagarli i lavoratori i soldi chi gliele dà c'è qualcosa dobbiamo uscire fuori da questa logica si deve trovare un percorso diverso perché fra un mese ritorneremo di nuovo punto d'accato fra un mese si diranno che il comune di Mazzaro non deve dare più una lira alla bellice ambiente e queste persone chi li paga questo è il quesito che ci dovevano chiedere no chiedere oppure come gara in quest'aula io soldi non ve ne do ve li do a Sonia Alfano ma Sonia Alfano non è che sia una banca non sono risposte che si devono dare alla città ai cittadini che pagano si mettono in una stanza non è possibile che intervenga un cittadino un sindaco di una città vicina che con poca logica non so se ha avuto come dire forza in questa vicenda ma con due o tre parole con un comunicato detto ma siete tutti diventati pazzi in questa provincia e poi non si può accusare secondo me in maniera così imprudente un un responsabile dell'istituzione il prefetto che è stato come dire paragonato a Poncio Pelato io me ne lavo le mani non sono queste le situazioni io credo che i toni si devono abbassare e cercare soluzioni vere tecnicamente come fare ognuno scenda dal proprio pedestale i due attori principali scendono dal pedestale perché loro sono gli attori ma gli spettatori alla fine si possono anche rompere qualche cosa e dire basta possono essere cittadini mazzarese o possono essere lavoratori della belice ambiente basta non ne possiamo più di questa lotta non ne possiamo più grazie passo un altro punto che era finisco vado alla conclusione finisco subito che era il problema legato alla nuova pianta organica degli ospedali infatti io sono stato fin dall'inizio da molti anni a dire che noi possiamo anche fare un bel albergo l'albergo sarà anche il migliore ma il problema più grosso a mio parere è chi dirige quell'albergo quindi i problemi che giustamente il consigliere Foggia ha evidenziato saranno ancora come dire prementi nei mesi successivi quando di fatto ci sarà il passaggio di tutte le unità operative dislocate per ora tra Marsala e Castellano e la città di Mazzara e andare a vedere chi gestisce queste unità possono essere semplici o complesse non c'è una grossa differenza se uno è bravo se uno è bravo se porta conoscenza e scienza può essere anche una responsabilità semplice a far sì che sia migliore di chi magari ha una responsabilità di struttura complessa il problema serio che si porrà nel prossimo anno è chi dirigerà queste strutture perché di fatto mancano tutti i responsabili di queste strutture mancano di fatto per motivi molti ex primari responsabili sono andati tutti in pensione devono essere rifatte completamente delle nuove organiche delle unità operative penso all'ortopedia vecchi ortopedici non ce n'è più lì questo problema è non l'abbergo lasciando poi magari vedere nel tempo cosa succederà nel cosetto polo oncologico lì è una situazione che forse la politica deve farsi forza e deve fare forza per dire guardate che forse quello che è stato promesso non era era molto di più ma lo scontro lì è politico fra due città fra un governo che deve gestire questa situazione e con quella cappa che ancora abbiamo che i due ospedali riuniti sarà l'ospedale 1 di Castelvedrano e Mazzara non lo so se tutto quello che è stato messo in carta si potrà fare perché coserà sicuramente con le leggi nazionali dove ti dice che non ci possono essere due ortopedie due medicine due chirurgie che abbiano gli stessi intendi quindi per ora possiamo sì parlarne ma la costatazione il dato di fatto vero sarà quando poi ci saranno i trasferimenti e vedere di vivo dentro che cosa succederà in questo momento possiamo anche allarmarci su quello che ha detto il consigliere Foge anzi forse cominciamo a dire riamiamo un po' di più quindi per non allarmare e dire cosa porteranno e cosa non porteranno il problema sarà dopo abbiamo un bel abbergo il problema come riempirlo speriamo che venga riempito da persone che stanno collegate a farlo funzionare grazie grazie a lei consigliere Arena e volevo informare il consiglio comunale che a breve organizzerò un altro sovralluogo in ospedale già concordato con il direttore sanitario e il direttore generale per andare a vedere i lavori a che punto sono lo stato d'avanzamento io non vedo più nessuno iscritto a parlare consigliere Dima prego grazie presidente non si può tacere sicuramente davanti a questa settimana di passione che ha vissuto la nostra città pensavo di venire in aula e trovare quasi un clima di scuse alla città oggi bisognerebbe scusarsi con la città con quanto è accaduto e mi auguro che non abbia più a ripetersi quanto è accaduto questa settimana quella che abbiamo vissuto non è un'emergenza qualunque è stata un'emergenza sanitaria sociale igienica non è possibile che in questa città assistiamo sempre in continuazione a delle discussioni e non al dialogo il dialogo ha fatto sì che cessassero le guerre invece in questa città non si fa altro che discutere discutere e dibattere per aumentare le diatribe e aumentare i problemi ma vogliamo veramente ridurre la nostra città in queste condizioni io chiedo formalmente all'amministrazione mi rivolgo a lei vice sindaco in quanto rappresenta la figura del sindaco di fare in modo al di là del fatto che non si ripeta quello che è accaduto di fare in modo che vengano bonificate per bene alcune aree soprattutto quelle accanto agli edifici pubblici noi abbiamo delle discariche a cielo aperto e quando non sono state delle discariche sono stati dei cassonetti accanto a delle scuole tutto ciò è impossibile visto quello che accade tra i disservizi visto quello che accade anche a causa dell'inciviltà di molti nostri concittadini che al di là del fatto che non rispettano le regole di conferimento hanno anche la sfacciataggine di conferire dei rifiuti speciali spesso non si abbondi accanto a delle scuole questa cosa non si può più ripetere va perseguita va multata perché questo è un attentato alla pubblica sicurezza e soprattutto accanto agli istituti frequentati da bambini mi è capitato di assistere ad una scena non sapevo cosa stesse accadendo e parlo anche prima dell'emergenza rifiuti passando davanti a una scuola ho dovuto ho cercato di capire da dove venisse questo odore nauseabondo e ho capito che proveniva dai cassonetti dove qualcuno ha conferito sicuramente da non buon padre di famiglia dei rifiuti speciali quindi al di là di tutto questo io vorrei invitare voi dell'amministrazione so che ci sono tante persone che sono propense al dialogo di fare in modo che non avvenga più perché da non da consigliere comunale ma da cittadina mi sono amareggiata e mortificata e vergognata prima per me stessa e per i miei figli e poi per i turisti che abbiamo visto passare purtroppo in questi giorni dalla nostra città tappandosi la bocca e il naso e tutto ciò non si deve più ripetere nella maniera più assoluta quindi faccio un appello pubblico all'amministrazione intanto di andare a bonificare e di possibilmente chiedere uno spostamento dai cassonetti da tutti quei cassonetti che sono accanto agli edifici pubblici grazie grazie a lei consigliere Diadema ha chiesto di parlare il consigliere buon marito prego dopo si prepara Caruso e poi alle 6.30 Presidente le ringrazio per la parola io visto che è arrivato l'assessore a bilancio visto che c'è il revisore dei conti il dirigente io chiedevo in ordine dei lavori il prego del punto numero 13 se era possibile metterlo in voto noi siamo ancora sull'interrogazione e comunicazione e non lo possiamo mettere il punto assolutamente quindi lei deve fare intervento se vuole fare intervento su interrogazione e comunicazione e allora io aspetto per che finiscono le comunicazioni e le interrogazioni e facciamo il prego grazie consiglieri giunta cittadini presidente e assessori presidente Gancitano volevo innanzitutto ringraziarla due volte per il rispetto che hai nei confronti dei diritti che sono scritti anche nel regolamento comunale di dare la possibilità di parlare a tutti i consiglieri comunali che vogliono intervenire in ordine alle comunicazioni e interrogazioni e le ringrazio per la seconda volta perché così consente tutte quelle formule della libertà che sono espresse dalla carta costituzionale fino al più importante dei dizionari della lingua italiana saluto come capogruppo la comunicazione che è stata inizialmente consegnata dal dottore Arena in merito al suo immagino ultimo ingresso nel partito socialista italiano volevo innanzitutto dire una cosa molto chiara ciò che si è verificato in questa città in merito all'emergenza rifiuti si chiama emergenza perché è un fatto contingente e rispetto ad un'emergenza di questo tipo l'amministrazione comunale quindi il sinno con la giunta chi è preposto a dover far fronte alle forme di emergenza produce quegli atti necessari a che rientri l'emergenza stessa e sono stati citati poco fa dalla consigliera Dea Dima i motivi per i quali molto probabilmente se non addirittura sicuramente si è provveduto a quegli atti ex 191 se non erro che è stato attuato e ancora in vigore cioè preoccupazioni emergenza di tipo sociale di tipo sanitario di ordine pubblico un po' tutti quelli che avete raccontato questo per dirvi con la calma e con la flemma di chissà che di fronte ad emergenze del genere non c'è un'amministrazione che si lava le mani al contrario c'è un'amministrazione che mette mano a problemi atavici e a problemi che si dimostrano come imprevisti e che col perdurare volte in questo caso di qualche giorno diventano emergenze vere e proprie certo è che la posizione dell'amministrazione comunale in merito a tutta questa situazione dell'emergenza rifiuti si è comportata così come era giusto che si comportasse perché rientrasse l'emergenza ogni qual volta si è presentata dovendo fare ciò che è ovviamente consentito per legge perché l'emergenza rientri e quindi sono sicuramente lontanissimo da ciò che è stato additato a questa amministrazione in merito a chissà con le forme di irresponsabilità certo concordo anch'io con il fatto che non è stata una bella cartolina da visita fare per questi giorni trovare la città in queste condizioni e sicuramente è un grande danno di immagine e mi fa piacere che questo danno di immagine a cui abbiamo piano piano e si sta ancora ponendo rimedio se ne sia accorta anche l'opposizione non tanto del danno ma del fatto che stiamo provvedendo così come potete penso come ho fatto io vedere già in qualche parte della città sicuramente nei giorni prossimi la situazione rientrerà come è già successo in altri casi e accolgo l'occasione per ringraziare il Presidente di essersi immediatamente premurato credo di aver ascoltato bene se dico che si è premurato di organizzare un incontro in loco all'ospedale per verificare la situazione non solo dello stato dei lavori ma ovviamente anche a ciò che ho sentito parlare in merito la preoccupazione di quello che dovrà essere diciamoci la destinazione d'uso di ciò che dovrà diventare il nostro grande ospedale che io voglio essere ottimista così come lo sono stato quando ho avuto modo di intervenire durante il Consiglio Comunale Aperto ottimista nel senso che è bella sicuramente la struttura e mi auguro sono certo che così sarà sarà ancora più efficiente ciò che dovrà esserci all'interno in merito alle funzioni che dovranno espletare le intelligenze a cui faceva riferimento l'assessore Areva per quanto riguarda la ecco ce l'avevo segnato qui ecco per quanto riguarda la questione delle problematiche relative all'immigrazione se i miei colleghi consigliere gentilmente fate venire il consiglio Caruso posso dire senza minima smentita che in questo momento in quest'aula dallo scranno della presidenza all'ultimo posto dedicato alla platea se c'è qualcuno che può parlare a nome della destra questo è il sottoscritto chiaro remetto questa affermazione perché la posizione in questo caso di Fratelli d'Italia e che non ha nulla di differente rispetto alle posizioni che assumeva il mio partito quando frequentavo alleanza nazionale non ha nulla di diverso rispetto alle posizioni attuali e certamente quando parla dei temi dell'immigrazione non sbaglia la mira quando casi del genere si verificano a Mazzara del Vallo così come in tutta Italia e non sbaglia la mira quando indica come assolutamente inadeguata una politica di gestione dell'immigrazione che non è portata avanti da governi che in questo momento fanno capo al mio partito di riferimento ma fanno capo al partito di riferimento che si chiama partito democratico accompagnato dagli uomini di NCD e negli ultimi tempi di qualche trasfugo di Forza Italia qualche trasfugo con questo voglio dire che la gestione della politica dell'immigrazione è un caso che si verifica da Mazzara del Vallo a Bolzano e l'organizzazione chiamiamolo così della distribuzione quota parte all'interno dell'Italia era una grande preoccupazione che ha avuto Fratelli d'Italia la Lega comunque il centro-destra quando si cominciò a capire che da parte dell'Europa c'erano due pesi e due misure che in soldoni si traduce così siamo l'Europa in questo periodo siamo l'Europa quando è ora di dover andare dietro all'austerity e di dover pagare le tasse ma siamo la Sicilia o in questo caso ancora più grande siamo l'Italia quando si tratta di dover far fronte all'immigrazione e per i numeri che sono già arrivati e per quelli che si prospetta possono arrivare l'emergenza legata all'immigrazione e se non fosse stato per la voce grossa fatta anche se non addirittura soprattutto dal partito dei Fratelli d'Italia nei confronti di una inadeguata quanto meno gestione della politica di immigrazione nei confronti del governo Renzi cioè del partito democratico in questo momento ci saremmo preoccupato di tante altre cose tant'è che si sono dovute tra virgolette aprire le frontiere che si è dovuta fare una sorta di redistribuzione per quota parte da questo punto di vista adesso tra gli stati europei certo capita anche a Mazzara del Vallo inconveniente di questo tipo è sicuro che bisogna fare il controllo ma si fa il controllo su queste cose e ci si augura che si faccia come dire il controllo sulla micro criminalità organizzata ovunque a destra e manche a 360 gradi questo lo dico perché ripeto bisogna avere quantomeno una mira esatta quando si cerca di ovviamente esternare una propria preoccupazione rispetto a certi fatti quindi da questo punto di vista Fratelli d'Italia così come al tempo fu alleanza nazionale tra virgolette non ha mai cambiato idea lo dico tra virgolette perché non vorrei che non cambiare idea significasse ottusità ma non ha cambiato idea nel senso che ha immaginato che ovviamente prima di tutto vengono gli italiani e poi vengono le esigenze di coloro i quali abbiamo sempre e comunque offerto la grande accoglienza che è dovuta non solo soltanto da parte di un'idea politica a cui si appartiene ma soprattutto al fatto di essere innanzitutto italiani vado alla conclusione Presidente io ho ascoltato tutti in religioso silenzio ed è ascoltato pure il suo tempo lo so mi volevo mettere in pari con gli altri che hanno fatto altrettanto ciò di cui ci si preoccupa più che altro ripeto è la questione ambientale certo è che sotto gli occhi di tutti è stato menzionato io ho ascoltato un po' tutti che questa amministrazione dal punto di vista ambientale sta facendo il massimo anche i lavori che sono stati fatti in commissione io mi ricordo benissimo questione legata all'amianto e tutto quanto credo che siano arrivati se la consigliera Marascia mi guarda un attimo a proposito proposte di mozione credo già votate in merito all'amianto riguardo alla vostra commissione quindi ce n'è di cose del genere ed è stata fatta un'operazione ambientale da questa amministrazione di tipo faraonica di tipo faraonica perché quando mi si dice che stanno facendo la discerbatura e ovviamente si è cominciato dalle periferie ebbene che si sappia che è un'operazione che ha una forza centripeta cioè che dall'esterno convoia verso l'interno quindi se cominciano dalle periferie arriveranno fino a sotto casa vostra mettendo che abbiate una casa al centro del centro storico per dire che non sarà ammesso da parte ecco io questo lo volevo fare soltanto in premessa credo abbia già detto che l'eventuale richiesta di prelievo si bisogna farla immediatamente dopo immediatamente dopo che chiudiamo il punto va bene ringrazio presidente grazie consigliere caruso ha chiudito il punto numero due e passiamo assessore prego consigliere la crutta lei ha già parlato consigliere la crutta il suo intervento già in derogazione e comunicazione io poco fai assessore prego presidente io chiedo rispetto al regolamento consigliere la crutta lei deve fare parlare l'assessore lei il suo intervento già sull'interrogazione e comunicazione l'ha fatto quindi assessore prego presidente la ringrazio per avermi concesso la parola saluto i colleghi consiglieri saluto la cittadinanza io non ho ascoltato tutte le interrogazioni che sono state fatte all'amministrazione perché sono sono arrivato in ritardo comunque questa sera mi preme e dare alcuni chiarimenti e dire tutta la verità su quello che è successo sulla raccolta del rifiuto e quindi mi riferisco al lato oberice ambiente mi riferisco sia al consiglio comunale ma soprattutto ai cittadini beh quando si parla di arroganti io credo che non sia il termine esatto io ritengo che quando ci siano problematiche così serie che riguardano soprattutto l'incolumità dei cittadini non bisogna guardare l'arroganza o le non condivisioni tra due soggetti una cosa è certa che il comune di Mazzara del Vallo mai ha detto di non avere debito nei confronti del lato oberice ambiente ma quando è stato dichiarato questo è stato sempre detto che a causa delle somme pignorate che superavano il debito non era possibile dare liquidità al lato oberice ambiente e quindi non era possibile pagare purtroppo anche gli stipendi agli operai io ho partecipato il 22 settembre a un'assemblea del lato oberice ambiente a Santa Linfa c'era presente il commissario naturalmente il commissario straordinario e in quell'occasione si è parlato del nolo a freddo il comune di Mazzata del Vallo si è astenuto l'assemblea ha approvato il nolo a freddo ma si è astenuto per un semplice motivo perché già era stata era stata proposta il nolo a freddo dal sindaco Cristaldi un anno fa in prefettura ed era stata presa in considerazione era stato riproposto durante il consiglio comunale aperto presente anche il commissario straordinario ma anche lì non era stata presa in considerazione ma l'astenzione non significa un rifiuto naturalmente io ho detto in quell'occasione che se la maggioranza avesse deciso di utilizzare il nolo a freddo naturalmente mi sembra ovvio il comune di Mazzata del Vallo non poteva farne a meno ma diciamola quello che mi ha dato fastidio e che poi è andato oltre i limiti a mio avviso anche della democrazia è stato quando si è parlato dei debiti del comune di Mazzata del Vallo che soprattutto di quattro fatture che erano state rigettate dal comune di Mazzata del Vallo circa tre mesi fa perché fatturata al cento per cento quando c'erano delle contestazioni per servizi non resi e il lato belice ambiente non si era neanche diciamo un dico degnato ma non aveva segnalato queste fatture rimandate indietro per avere diciamo una somma inferiore che si aggirava circa il 70% tutto questo ha scatenato l'ira del commissario straordinario che in quell'occasione ha detto vabbè noi da domani non raccoglieremo più rifiuti nella città di Mazzata del Vallo e chiudiamo la discarica ho parlato in quell'occasione forse c'è qualche testimone consigliere comunale che era presente sia con gli operai sia con il commissario sia con alcuni sindacati dicendo che noi avremmo rivisto nel più breve tempo possibile queste quattro fatture che erano state ricettate e se c'erano le condizioni di dare liquidità all'autobelice ambiente il comune di Mazzara del Vallo naturalmente non si sarebbe sottratto a questo tutto questo non è servito a nulla fatto sta che c'è stata un'interruzione di servizio pubblico per circa sette giorni di che sono le responsabilità di interruzione di servizio pubblico a mio avviso sono molto chiare non voglio entrare nel merito di queste responsabilità sono stato convocato ieri a sua eccellenza il prefetto presente i tecnici del comune di Mazzara del Vallo presente il commissario straordinario onorevole Sonia Alfano e in quell'occasione a condizione che venisse riaperta la discarica perché altrimenti noi come avremmo potuto eliminare i rifiuti che erano per tutte le strade della città Mazzara del Vallo non avendo la possibilità di avere una discarica a disposizione nonostante avessimo fatto per tre o quattro giorni comunicazione al Presidente della Regione al Dottore Armenio che è responsabile regionale dei rifiuti nessuna risposta quindi eravamo con le mani bloccate di chi sono le responsabilità poi ci saranno eventualmente altre sedi e come se il comune di Mazzara del Vallo siccome ci sono a Mazzara 80% dei cittadini che non pagano le tasse chiude il rubinetto dell'acqua senza avvisare così si chiude il rubinetto dell'acqua e poi si vedrà credo che questa questa questione doveva essere eventualmente risolta in altre sedi in sedi giudiziali ma intanto non credo che era opportuno chiudere una discarica e non poter più conferire i rifiuti di chi sono state le responsabilità e di chi sono ci saranno altri organi competenti che dovranno dirle credo comunque che a prescindotto quello che sia successo siamo arrivati ad un punto di incontro nel senso che da stamattina sono iniziati i conteggi delle quattro fatture ricettate e di altre fatture continueranno domani mi dicono che entro le tredici già si può avere l'idea di quale somma potrà essere liquidata per poter pagare lo stipendio o una parte di stipendio a questi benedetti operai che giustamente protestano e quindi abbiamo raggiunto un obiettivo ritengo che il comune di Mazzara delle Valle l'amministrazione abbia agito in maniera perfetta nel rispetto delle leggi domani si saprà il risultato della somma che verrà naturalmente poi liquidata con tutte le procedure dovute io adesso non so dire qual è la somma l'entità è la somma l'ho comunicato telefonicamente a sua eccellenza il prefetto quando si parla di arroganza volevo solo anche dire un'altra verità in quell'occasione alla fine dell'incontro con sua eccellenza il prefetto per evitare che qualcuno potesse essere il paladino della soluzione del problema e della repertoria della discarica abbiamo concordato tutti insieme l'amministrazione comunale il commissario straordinario del prefetto di non far nessun comunicato stampa di non far nessun comunicato stampa sarebbe stato su eccellenza il prefetto a farlo dicendo che dopo l'incontro avvenuto tra l'amministrazione comunale e il commissario straordinario si è convenuto di riaprire la discarica e di iniziare i conteggi delle fatture che erano state rigettate a me sembra che qualcuno ieri pomeriggio abbia fatto un comunicato stampa dicendo anche qualche bugia che contraddice quello che poi ha scritto in una lettera ufficiale al comune di Mazzararevallo dopo comunicava che veniva aperta la discarica iniziamo nei servizi e che contestualmente iniziamo nei conteggi per quelle quattro fatture non che il comune di Mazzararevallo ha detto sì noi siamo debitori lo riconosciamo quindi adesso vorrei capire da che parte sta l'arroganza e da che parte sta invece la non arroganza quindi ritengo di dare una buona notizia alla città di Mazzararevallo e far capire che questo servizio se non funziona se i mezzi non sono idoni non è per colpa del comune di Mazzararevallo e quando non sono idoni è opportuno utilizzare il 191 perché altrimenti andiamo in conto al rischio igienico sanitario questa è la pura verità fra l'altro è pure avverbale in prefettura quindi non puoi avverbale anche presso lato lato belice ambiente detto questo volevo anche dire a chi ha chiesto le dimissioni degli assessori o dell'assessore spagnolo beh che è stata proprio una una richiesta inopportuna e credo che i fatti lo stanno dimostrando perché ci può essere un'incompressione se all'assessore è buonanno e l'assessore spagnolo nella comunicazione non abbiamo parlato sempre di pianificazione per quanto riguarda la manutenzione straordinaria sia dalle riservatori alle strade ma anche all'interno delle scuole ritengo che in questi giorni abbiamo dato dimostrazione di efficienza e mi riferisco alla scuola della via Livorno la scuola di via Santoro Bonanno la scuola di Santa Caterina e così noi continueremo dove c'è l'esigenza di fare una manutenzione straordinaria anche se c'è un regolamento comunale che prevede dando somme ai dirigenti scolastici dovrebbero anche loro fare questa benedetta perché parliamoci chiaro se noi facciamo una manutenzione straordinaria discerbando e parlando in Siciliano tagliando l'erba che è alta tre metri e poi il dirigente non continua non continua a fare la manutenzione è naturale che poi parliamo sempre di straordinario sempre di straordinario e noi non abbiamo i mezzi possibili e immaginabili credo di dover concludere questo mio intervento tranquillizzando soprattutto la cittadinanza e far capire la cittadinanza che l'amministrazione comunale non ha nessun tipo di responsabilità su quello che è successo in questa settimana ma forse le responsabilità sono di altri e ci saranno gli organi competenti che poi lo dimostreranno e lo verificheranno grazie Presidente grazie a lei Assessore chiudo il punto 2 all'ordine del giorno e passiamo io ho in ordine il lavoro il consigliere Agrutta che ha chiesto il prelievo del numero 18 ed è il primo il consigliere Bomarito che ha chiesto il prelievo del punto numero 13 e il consigliere Tumbiolo che mi ha fatto sapere che farà la richiesta del prelievo del numero 43 io sono costretto a mettere in votazione uno per uno quindi vi ricordo a tutti che noi sempre grazie il consiglio comunale abbiamo inserito questo punto aggiuntivo che è il numero 43 che è scadenza domani quindi io innanzitutto do la parola al consigliere Agrutta che fa la proposta del prelievo del numero 18 Presidente allora io poco fa avevo chiesto la parola ai sensi di alcuni articoli del regolamento e lei non me ne ha concessa lei mi sta dando ora la parola in ordine di lavoro consigliere Agrutta faccia la sua richiesta però ci sono delle risposte che dall'amministrazione comunale tanti consiglieri hanno fatto delle domande e interrogazioni e desideravano delle risposte intanto lei mi deve dire in ordine di lavoro e la richiesta del prelievo poi sul punto se lei vuole fare qualche chiarimento lo faccio perfetto i punti sono il 13 il 18 il 43 no 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 me lo deve dire in ordine che lei vuole lei mi ha fatto il 18 il consigliere Bomarito il no il consigliere Bomarito lei lei lo fa dopo il consigliere Agrutta ha chiesto la parola ah qui consigliere Agrutta se va bene 13, 18 e 43 ce li giochiamo pure sulla ruota di Palermo ok però non ho finito se occorrevano risposte precise su quella riunione fatta all'Asp e volevo sapere se l'assessore che qui ora è presente poteva rispondere a quanti a quelli che hanno chiesto i consiglieri gli ho detto io nel punto poi lei questo chiarimento lo fa siamo in ordine di lavoro non vorrei che poi l'assessore con il consigliere Agrutta in ordine di lavoro pure lei ringrazio presidente giunta colleghi consigliere cittadini velocissimamente è intenzione di questa di questa maggioranza chiedere il prelievo solamente del punto 43 quindi del punto aggiuntivo che ha una scadenza che è quella di fine settembre e non trattare e quindi non votare contrario eventualmente alcune proposte di prelievo su qualsiasi altro punto che non ha nessuna urgenza nessuna fretta e che può tranquillamente essere affrontato così per come è stato collocato all'interno dell'ordine del giorno quindi anticipo fin da adesso che la maggioranza voterà favorevole il prelievo dell'ultimo punto del numero 43 e contrario a qualunque altro prelievo grazie allora metto in votazione la prima proposta del consigliere la crutta in ordine del lavoro per quanto riguarda il prelievo numero 18 e 13 13 e 18 e poi il 43 consigliere la crutta quindi 13 18 e 43 che favorevole sia seduto che contrario sia alzi che sudorodigale favorevole cangemi burzotta arena la crutta diadema buon marito safina e non vedo più nessuno contrari caiazzo di gregorio marascia non rito randazzo zizzo foderà giacalone giuseppe dannibale provenzano impeduglia giacaloni sidonia pernice tumbiolo caruso astenuto e presidente allora presenti 23 7 favorevole 15 contrari un astenuto il prelevo del consigliere la crutta non passa metto in votazione il prelevo del consigliere tumbiolo quindi il prelevo del punto numero 43 che favorevole sia seduto che contrario sia alzi che sudorodigliari favorevole cangemi burzotta alestra signore siamo in fase votazione favorevole a prelevo numero 43 consigliere cangemi lei com'è contrario cangemi facciamo io ho detto che è favorevole sia seduto che è contrario sia che sudorodigliari quindi sto incominciando dalla quindi contrario consigliere cangemi burzotta arena safina buon marito astenuti alestra e gancitano favorevole di adema marascia di gregorio norrito zizzo foderà randazzo provenzano giacalone giuseppe dannibale impeduglia giacalone sidonia pernice caruso e tumbiolo e foggia scusi consiglio di foggia non lo vedevo 16 favorevole 5 contrari 2 estenuti passa al prelevo del punto 43 invito voti favorevole 16 favorevole consigliere Mauro già non la votazione prima lei era fuori consigliere Mauro lei la votazione era fuori consigliere Mauro non si è fatto per appello nominale quindi è inutile che lei io intanto giudico faccio la votazione io lo ripeto io lo ripeto tranquillo non c'era il problema contrari erano Cangemi Burzotta Arena Safina e Bonmarito astenuti Alestra e Presidente favorevole La Grutta Marascia Diadema Di Gregorio Norrito Zizzo Foderà Randazzo Provenzano Giacalone Giuseppe Dannibale Impeduglia Giacalone Isidonia Pernice Caruso e Tumbiolo e Foggia Va bene così consigliere Mauro posso dire la votazione a loro presenti 23 16 favorevoli 5 contrari 2 stenuti il prelevo numero quanta telepassa invito l'amministrazione per ristrare l'atto prego il consigliere il consigliere La Grutta che faceva riferimento nelle comunicazioni anche se io sono arrivato in ritardo a ciò che è avvenuto alla riunione per quanto riguarda il nuovo piano aziendale e sottoscritto era presente a rappresentare l'amministrazione se il consiglio lo ritiene il presidente lo ritiene posso dare alcuni chiarimenti in merito altrimenti posso diciamo proseguire subito con l'atto che sto proponendo in trattazione Assessore se volevo fare un piccolo passaggio mi fa piacere il consigliere La Grutta sicuramente accetterà cerco di essere molto sintetico l'armione è l'incontro che si è svolto la scorsa settimana presso il comune di Trapani Palazzo Dalì in quanto si trattava della conferenza dei sindaci e a presiedere la conferenza dei sindaci e quindi a convocare l'incontro è il sindaco della città di Trapani conferenza dei sindaci alla quale ha partecipato e partecipa l'ASP nella persona del direttore generale e nella persona dell'intero staff dell'azienda sanitaria provinciale l'ordine del giorno di quella riunione era il nuovo piano aziendale e il nuovo assetto organizzativo per quanto riguarda la rete ospedaliera in provincia di Trapani noi riteniamo e abbiamo dato anche parere favorevole che questa proposta che comunque ci tenga a sottolineare una proposta che arriva dall'azienda sanitaria e quindi dall'ASP e una proposta che è sicuramente positiva per quanto riguarda l'ospedale a Belajello di Mazzara del Vallo certamente è normale che sia così ed è normale che ogni cittadino della propria città in questo caso parlo da cittadino mazzarese vorrebbe per il proprio ospedale per il proprio nosocomio il massimo vorrebbe il massimo per ogni struttura vorrebbe il massimo per ogni disciplina medica presente all'interno dell'ospedale io ritengo comunque che questo piano aziendale è un piano positivo per la nostra città è un piano proposto che ha consegnato e dato la possibilità di avere all'interno del nostro nosocomio sei strutture complesse tra cui strutture importanti come la cardiologia con unità coronarica come la medicina generale con la lungodeggenza come la chirurgia generale come la pediatria il nidio l'ostetricia e la ginecologia questo nuovo piano aziendale ha anche dato la possibilità di confermare e potenziare la presenza del punto nascita all'interno del nostro ospedale e di confermare e potenziare il pronto soccorso abbiamo avuto anche la possibilità all'interno di questo nuovo piano e di questo nuovo assetto di avere confermata il bunker con la radioterapia e di avere addirittura introdotto una nuova branca che è la chirurgia oncologica seppur con struttura semplice ritengo quindi che possiamo essere soddisfatti sicuramente l'ospedale di Mazzara come tutti gli altri nosocomi presenti nella provincia di Trapani potevano ognuno per la loro parte ottenere di più o chiedere di più perché questo è legittimo ed è legittimo che ogni amministrazione cerchi di difendere il proprio territorio e cerca di difendere anche la salute dei propri cittadini offrendo dei servizi sempre più efficienti ma nel complesso possiamo dire che non siamo stati trattati male e che comunque l'ospedale di Mazzara sia per quello che rappresenterà in termini di struttura e in termini di macchinari d'avanguardia nel momento in cui i lavori verranno completati e sia per quello che sarà il personale e le branche mediche previste sarà un ospedale sicuramente che non ha nulla da invidiare agli altri ospedali della provincia di Trapani un altro aspetto importante che è emerso da questo incontro riguarda il nuovo assetto organizzativo e quindi la pianta organica che prevede la possibilità per il nostro ospedale dell'assunzione di 92 nuove unità tra medici infermieri ausiliari e os che si vanno ad aggiungere agli attuali 240 per avere un totale di circa 330 unità voglio aggiungere e completo anche per essere sintetico perché non ritengo che questa diciamo sia il tavolo attraverso il quale noi possiamo approfondire ancora di più la questione che quello che è stato approvato in quella seduta in quell'occasione è il piano aziendale proposto e approvato dall'azienda sanitaria questo piano va inviato all'assessorato regionale alla salute la giunta regionale deve visionarlo e ha deve approvarlo e provvedere all'approvazione definitiva entro il 30 di novembre questo lo dico perché noi come amministrazione comunale e il sindaco soprattutto abbiamo cercato in questi anni fin dall'inizio dei lavori di difendere al massimo il nostro ospedale sia sotto l'aspetto di quelli che erano i lavori la struttura sia sotto l'aspetto di quelli che erano le discipline previste sia sotto l'aspetto di quello che dovrebbe essere il personale che lavorerà all'interno della struttura ma dobbiamo anche sapere che la politica fa anche la sua parte e che questo atto importante approvato e che inviato a Palermo potrebbe anche essere suscettibile di modifiche in senso migliorativo o in senso peggiorativo per cui ritengo e anzi approfitto per invitare tutti i consiglieri comunali e tutti coloro che hanno dei riferimenti o dei canali diretti con la regione siciliana a fare modo quantomeno di difendere quello che già è stato ottenuto se non addirittura cercare di fare in modo di ottenere e migliorare ancora di più rispetto a quello che è stato già determinato ed approvato fatta questa premessa per quanto riguarda l'atto posto alla trattazione e all'ordine del giorno riguarda l'adozione di misure correttive sulla base di rilievi posti dalla Corte dei Conti sul consuntivo 2013 noi poco tempo fa abbiamo approvato lo stesso atto per quanto riguarda il rendiconto 2012 sono dei rilievi che la Corte dei Conti annualmente quindi sui bilanci consolidati e approvati dall'ente locale fa nell'ambito della sua attività di controllo e di monitoraggio è chiaro che come nell'occasione scorsa anche in questa occasione mi preme sottolineare un aspetto importante e cioè trattandosi di un atto che comunque fa riferimento al 2013 quindi un esercizio ormai concluso non si può parlare di vere e proprie misure correttive all'interno del consuntivo stesso ma di adozione di comportamenti e di misure che possono dal punto di vista di quello che è la futura attività amministrativa essere in linea con quelle che sono le direttive e le indicazioni che ci dà la Corte dei Conti partendo proprio da quelle criticità e da quei rilievi è chiaro che su questi rilievi e su questi punti che sono stati messi all'attenzione da parte della Corte dei Conti oggi a distanza di un anno e mezzo circa ci sono alcune criticità che riguardano alcuni parametri che sono stati già totalmente separati superati scusate alcuni punti alcune criticità dove anche se non sono state ancora eliminate si è comunque registrato un miglioramento rispetto al parametro iniziale altri sui quali invece bisogna continuare a lavorare bisogna soprattutto introdurre delle iniziative e delle azioni forti per cercare di dare delle risposte e cercare di ridurre al minimo queste criticità io non intendo in questa fase entrare nella lettura dettagliata della relazione e nelle argomentazioni che sono prettamente tecniche c'è qui il dirigente eventualmente per alcune domande specifiche su alcuni punti e su alcuni rilievi sottolineati io mi limito all'aspetto politico dicendo che si tratta di un atto dovuto in quanto richiesto dalla Corte dei Conti un atto che porta in vita al Consiglio Comunale ad approvare tutte quelle misure che l'amministrazione ritiene opportuno mettere in campo per superare queste criticità un atto che con l'eventuale approvazione mette il Consiglio Comunale e i consiglieri nelle condizioni di poter verificare se le misure oggi proposte e approvate vengono poi seguite durante l'esercizio della propria attività io in questo momento mi fermerei qui ed eventualmente sono disponibile a rispondere a eventuali richieste da parte dei consiglieri comunali grazie grazie a lei assessore segretario per i pareri il parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile è favorevole il parere del collegio dei revisori il collegio dei revisori dei conti prende atto della proposta di deliberazione del Consiglio Comunale numero 28 del 26 settembre 2015 e raccomanda in particolare le seguenti condotte da porre in essere uno persistere nell'attività di accertamento dei tributi locali e nell'attività di riscossione degli stessi al fine di realizzare maggiori entrate dal recupero e evasione tributarie due l'adozione di politiche di contenimento delle spese di personale 3. il rispetto dei limiti di spesa previsti ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 78 2010 e successive modifiche 4. la verifica continua del permanere degli equilibri di bilancio ai fini di una sana gestione finanziaria per quanto riguarda la commissione agli atti non c'è il parere Sì invito il consigliere Giacalone componente della prima commissione a dare il parere Il parere della prima commissione consigliare è favorevole Grazie a lei apro la discussione generale allora 5 minuti per ogni intervento tranne il capogruppo che può parlare 10 minuti e invito visto la presenza del dirigente e del presidente del revisore dei conti in Gargiola durante l'intervento di fare le domande quindi fate le domande durante il vostro intervento che poi il dirigente o il presidente del revisore dei conti se vogliono rispondere rispondere apro la discussione generale non vedo nessuno iscritto a parlare consigliere la grutta prego 5 minuti Presidente mi perdono intanto un piccolo inciso l'articolo 67 del regolamento del lavoro consigliare stabilisce che i capigruppo possono parlare 15 minuti più 5 quindi 2 volte i consigli comunali 10 minuti non capisco perché ora sono cambiati questi minuti comunque a parte questo per quanto riguarda questo atto deliberativo io ho letto alcune cose che mi rendono perplesso si testimonia il superamento di alcune criticità ma poi nella fattispecie entrando nel merito della relazione e mi sarebbe piaciuto come dire che la relazione fosse allegata di modo che magari uno si andava a vedere la criticità superata o presunta tale in oggetto direttamente comunque la relazione ce l'avevo già da prima non ha importanza per quanto riguarda per esempio il punto 3 la criticità numero 3 la relazione della Corte dei Conti dice che il terzo motivo inerente il patto di stabilità del 2013 presumibilmente lo si è tenuto mediante un artificioso ritardo dei pagamenti in conto capitale la sezione della Corte dei Conti in adunanza risponde precisa che reputo opportuno ribadire l'obbligatorietà del rispetto del patto di stabilità infatti l'inosservanza o l'elusione del patto configurano una grave irregolarità contabile determinando la violazione di norme dopodiché io nella delibera odierna mi trovo scritto evidenziato che si dà atto si dà comunque può parare 10 minuti mi scuso grazie presidente si dà atto del superamento delle criticità di cui al punto 2 e 3 si dà atto alla venuta trasmissione delle misure correttive al punto 2 mancava un allegato e gliel'hanno spedito il punto 3 invece è questo delle misure correttive del ricondiconto 2012 in data 11-5-2015 e dell'adozione del piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità cioè praticamente io noto che c'è una una sorta di c'è una dicitura che non comprendo perché da una parte la corte dei conti ci dice che era opportuno come dire c'è l'obbligatorietà del rispetto del patto di stabilità e quindi per quanto riguarda appunto questo artificio presunto il ritardo dei pagamenti per mantenere il patto di stabilità io non capisco che c'entra la presa d'atto volevo spiegarte questa cosa poi andiamo avanti per quanto riguarda il discorso relativo e torna nuovamente purtroppo alla belice ambiente c'è un punto attinente ai rapporti fra comune e belice ambiente nel 2013 e qui torniamo al discorso di poco fa che sentivo dire che qualcuno qui pronuncia e proferisce illazioni e idiozie è la stessa come dire corte dei conti che riferisce ma è scritto anche nell'atto deliberativo odierno che in buona sostanza punto 11 in merito all'incertezza dei rapporti con belice ambiente e spia e alle reciproche ragioni di debito credito si segnala che l'ultimo bilancio approvato dalla predetta società è relativo all'anno 2012 il bilancio 2013 non è stato approvato giusta decisione assembleare del 29 8 2015 quindi l'assemblea purtroppo non ha assistito a questa assemblea hanno ritenuto di non approvare il bilancio 2013 e torniamo al discorso delle idiozie e delle illazioni ma se dal 2012 fino a oggi mancano i bilanci approvati della belice ambiente che vi ricordo i consigli comunali hanno competenza in vigilanza e controllo sulle partecipate per legge se non sono stati approvati i bilanci 2013 2014 ma come fate a stabilire con certezza il dare avere del comune ai confronti della belice ambiente come fate a stabilire che il segno è più o il segno è meno rispetto a pignoramenti fatture emesse rifiutate non rigettate perché mi sono andato a studiare l'altra notte la legge inerente la fatturazione elettronica non è prevista il rigetto è previsto il rifiuto il rifiuto avviene con determinate caratteristiche specifiche ma comunque entreremo prossimamente nel merito di queste cose non è oggetto del punto all'ordine del giorno ma la sostanza è la sostanza potrei parlare anche di altri punti mi limito a questi e a un altro che fa un po' lo specifico la sostanza è ma come avete superato questa criticità siamo riusciti a fare miracoli non credo perché se non ho i numeri dei bilanci della partecipata e la corte dei conti mi dice senti mi dovessi mettere a posto questi numeri come facciamo noi oggi a provare questa cosa non credo che sia possibile dire abbiamo superato questa criticità abbiamo preso atto e io sinceramente voglio dormire sonni sereni più che prendere atto voglio superare le criticità e torniamo al discorso dell'inizio che cosa hanno fatto i responsabili ovvero gli undici sindaci seduti alla belice ambiente non quelli attuali tutti quelli che si sono succeduti nel tempo il liquidatore Sonia Alfano tutti quelli che hanno preceduto tutti questi numeri questi conti li hanno messi a posto i consigli comunali di tutti i comuni e il nostro in particolare queste criticità le deve affrontare le possiamo superare quando questo scoglio lo prendiamo in mano e cominciamo a dire superiamo questa criticità perché abbiamo i numeri e quindi abbiamo capito qual è il rapporto abbiamo capito con certezza la situazione debitoria fra comuni e belice ambiente e per una volta e per sempre diciamo i cittadini perfetto abbiamo combinato questo la classe politica amministrativa di questo paese in questi anni ha determinato questi numeri dopodiché io pretenderò le dimissioni di tutti coloro i quali sono responsabili e non solo siccome ho già fatto segnalazioni con dati scritti a chi do competenze di dovere mi aspetto che poi gli organi competenti fassano il loro corso so che queste cose sono lunghe però dal nostro punto di vista dovremmo superare queste criticità e credo che ci debbano essere condizioni e non attraverso una presa d'atto un'altra situazione e qui allerto tutti i consigli dei comunali dobbiamo dobbiamo votare che cosa il rendiconto 2014 ancora ebbene come sapete io ho fatto un'interrogazione sull'albo pretorio perché all'albo pretorio io non riesco a seguire più bene l'attività gestionale politico amministrativa di questo comune perché vengono pubblicati atti a macchiare lopardo chiedevo visto che avevo sentito a mezzo stampa che era stato approvato dall'aggiunta il rendiconto 2014 chiedevo notizie volevo scaricarmi questo documento bene l'ho scaricato ho letto la delibera alla delibera c'è scritto che ci sono diversi allegati sappiate che all'albo pretorio fino a quando l'ho consultato io ho provato a scaricare uno degli allegati non c'è non è pubblicato sul sito internet del comune da qui scatolisce interrogazione fino a pochi giorni fa oggi non lo so non ho consultato l'albo pretorio e manco ieri non c'era questo allegato ho chiesto all'ufficio delibere precisiamo qual è l'allegato e qual è il riferimento rispetto all'atto deliberativo di oggi bene l'allegato si riferisce alle spese di rappresentanza alle spese inerenti la aiutatemi mi sfuggono i nomi precisi lo staff praticamente nel 2010 è stata emanata una legge quella della spending review che obbligava i comuni a spendere non più del 20% per quanto riguarda queste spese rispetto al 2009 il che vuol dire posto che nel 2009 avevamo speso 100.000 euro per spese di rappresentanza staff eccetera dal 2011 in poi si poteva spendere il 20% di quella somma nella fattispecie del comune di Mazzate del Vallo non può spendere somme esose ora non ricordo con certezza ma il numero preciso dovrebbe essere 7.000 o 10.000 euro risulta da documenti letti anche nell'ecricità sollevata dalla Corte dei Conti prima che invece abbiamo speso cifre molto superiori oltre 100.000 euro 130.000 euro volevo capire se questa è la veridicità di questi numeri perché io non riesco a capacitarmene e avere contezza domanda se nel 2014 il rendiconto di gestione pubblicato sul sito internet non presenta quella legato e quindi io non posso sapere in questo momento a quanto ammontano quelle spese e qui anche in questo documento c'è scritto che errare è umano ma perseverare no se continuiamo ed anche nel 2013 la Corte dei Conti ci dice vedete che anche questa volta anche quest'anno avete superato quella somma che era prevista per legge io mi chiedo e vi chiedo ma lo sappiamo che per violazioni continue di legge si può richiedere eventualmente la rimozione del Consiglio Comunale o eventualmente anche la rimozione dell'amministrazione comunale andatevi a leggere il testo di un'identi locali e vediamo se un sindaco può stare in essere o un Consiglio Comunale può stare in essere nel momento in cui viola la Costituzione oppure non è questo il caso oppure viola leggi non so se questo è il caso oppure eventualmente si creano situazioni di disordini sociali chiaramente non è questo il caso quindi queste sono le tre domande ce ne sarebbero tantissime altre su tutti i punti ma chiaramente per questioni di tempo mi riservo intervenire no perché non è concesso dal regolamento ma qui mi fermo e poste queste situazioni o me le si spiega e superiamo e non prendiamo atto di queste criticità o se no io mi riservo di votare insomma di conseguenze grazie grazie consigliere La Grutta vediamo poi quando i revisori rispondono per chiedere i suoi dubbi è iscritto a parlare consigliere Foggia prego ne ha favolta grazie presidente naturalmente per quanto riguarda questa lezione sulle misure correttive io votare favorevolmente come già ho votato pure il prelievo come già ho dichiarato detto questo più che altro non ne approfitto considerato il fatto che c'è l'assessore birardello più presente per alcune dichiarazioni fatte per quanto riguarda il nostro ospedale dico semplicemente che vero è che noi dobbiamo chiedere diciamo aiuto alla politica regionale al governo regionale non ho dubbi per cercare di confermare tutto ciò che è stato detto però io dico semplicemente che tra l'altro con lo Stato non so se altri hanno chiamato l'ho chiamato telefonicamente per sapere alcune delucidazioni su come erano andate diciamo le cose lo stato dei lavori che sono successi lì a Trapani il fatto che comunque la città si è arricchita da alcuni reparti questo non ho dubbio solo che c'è una grande differenza sulla volontà che allora c'era l'assessore Massimo Russo e sull'attuale assessore alla sanità che è Gucciardi sono state fatte delle modifiche che io non digerisco non digerisco perché secondo me la città su un punto di vista a livello sanitario viene declassata gli spiego subito perché perché noi parlavamo di un polo oncologico di eccellenza e per quanto riguarda quando si parla di polo oncologico di eccellenza perché ho approfondito bene la cosa anche perché ne posso parlare riguarda diciamo sia quando arriva l'ammalato e quindi si va a diagnosticare una patologia X fino alla fase terminale positiva o negativa quel che sia significa pure avere delle eccellenze quindi dei primari nella città di Mazzatevallo con l'oncologia semplice questo non accade ci dobbiamo obbligatoriamente rivolgere alla cittura ospedaliera che in questo caso quello che capisco io e dalla politica dalla volontà politica significa trapani e questo a me non sta bene perché la volontà di Massimo Russo non era questa era quella di fare diventare punto di riferimento la città di Mazzatevallo come polo oncologico significa fare decollare la città a livello sanitario visto che per anni siamo stati mortificati ora io chiedo bene ha fatto lei però mi dispiace il fatto che magari siamo stati d'accordo ad un'animità su quello che si è parlato lì nella città di Trapani io dico semplicemente che qualche diciamo qualche criticità ci doveva pure essere perché in questo caso siamo stati bocciati e ne parlo con molta tranquillità perché sono stato insieme l'ho detto poco fa al vice sindaco Bonanno al dottor Estalessi e altre persone della città siamo stati quelle persone che credevamo diciamo a quello che aveva dichiarato la storia Massimo Russo ci sono andati in piazza a raccogliere le film facendo una petizione popolare ma questo non si sta verificando qualcuno ha parlato di hotel io dico che la struttura è spettacolare era per come me la immaginavo pure io però adesso dobbiamo portare l'eccellenza a Mazzara del Vallo e le eccellenze non si portano diciamo con i reparti semplici ortopedia semplice oncologia semplice ci vogliono le cose che sono state dichiarate 3-4 anni fa dall'assessore Massimo Russo e allora chiedo all'assessore Gucciardi che ci rappresenta di cercare di mantenere la volontà di Massimo Russo e la volontà di De Nicola perché 5 anni fa c'era pure De Nicola non è che è stato cambiato il dettore dell'ASCO il dettore dell'ASCO non è stato cambiato quindi io voglio quello il riordono ospedaliero voglio quello non questo questo non mi rappresenta perché ancora una volta siamo usciti mortificati a mio modesto parere parlavamo di eccellenza siccome il sindaco si è battuto e l'amministrazione comunale per avere garantite alcuni reparti bene lì gli faccio applauso però ci dobbiamo muovere tutti nell'interesse di mantenere il polo oncologico ammazzato e vallo di eccellenza questo è l'obiettivo di tutti ma è nell'interesse di tutta la collettività non è nell'interesse del consigliere Foggia è nell'interesse di tutti perché facendo alcuni calcoli dico semplicemente che anche nei tre benefici tutto l'indotto non lo trovo a dire ma è così perché con polo ecologico significa centralizzare tutto ammazzato e vallo e fare lavorare i bnb fare lavorare tante cose io lo so perché ne so parlare perché so quanto mi è costata la mia patologia per superarla economicamente e la radioterapia deve essere a Mazzara perché Trapani ce la voleva rubare però per non portarla a Trapani si è regandita pure a Trapani io non ne faccio un problema di campanilismo Trapani, Mazzara, Caltanissetta non me ne frega niente io guardo solo la città di Mazzara del Bar e la politica tutta dai consiglieri comunali ai deputati ai parlamentari abbiamo un deputato di 5 stelle che si impegni pure io ho un deputato di riferimento mi impegnerò pure io come ho sempre fatto perché ci metto la faccia nelle cose che faccio dico semplicemente impegniamoci perché non mi accontento io io non mi accontento perché faremo un consiglio comunale aperto e invideremo tutti gli esponenti della sanità a Mazzara del Vallo e devono essere presenti perché gente a Mazzara consenze ne ha presa le regionali e non ci possono declassare devono avere rispetto anche di quei consensi quindi tutta la città di Mazzara del Vallo io non ne faccio un problema politico dico che l'ospedale non ha colore politico la Croce Rossa appartiene a tutti quindi dico semplicemente impegniamoci perché c'è qualcosa che non mi quadra c'è qualcosa che non mi torna a me non interessa se il dottore non è contento sulla radio sull'ortopedia a me queste cose non mi significa niente io non ne faccio una cosa personale io ne faccio una cosa per il bene collettivo per il bene collettivo perché la struttura veramente è d'eccellenza però voglio le migliori professionalità gente specializzata che devono studiare il caso nella città di Mazzara del Vallo non dobbiamo essere succursale a nessuno grazie grazie a lei consigliere Foggia vuole intervenire l'assessore Billardello prego presidente consiglieri colleghi della giunta il consigliere Foggia ha fatto delle affermazioni che io diciamo condivido in pieno anche perché lui sa benissimo che il sottoscritto è stato a fianco della loro assessore regionale della salute massimo russo nell'andare inizialmente a intercettare e rendere operativo quel famoso finanziamento di 32 milioni di euro che oggi ci sta consegnando un ospedale d'eccellenza sotto l'aspetto innanzitutto strutturale come attrezzatura d'avanguardia e voglio soltanto chiarire e rafforzare quello che ho detto poco anzi qualcosa è cambiato è cambiato il fatto che rispetto a qualche anno fa quando c'era un assessore regionale della salute che forse perché anche cittadino mazzarese aveva sicuramente per un fatto anche istintivo e naturale più a cuore le sorti della nostra città oggi non abbiamo un assessore che è cittadino mazzarese ma questo fa parte della vita politica di tutti i giorni ciò non toglie che tutti noi cittadini mazzaresi ma soprattutto tutti noi che abbiamo un ruolo di responsabilità politica nella nostra città dobbiamo lottare quotidianamente per fare in modo che le migliori risorse le migliori eccellenze i migliori servizi sia per quanto riguarda la salute che per quanto riguarda altro siano sul nostro territorio e questo l'abbiamo fatto caro consigliere con forza perché è vero che probabilmente qualche altro reparto poteva essere maggiormente potenziato o non declassato ma è pure vero che in una concertazione complessiva di una rete ospedaliera trapanese così complessa con un direttore sanitario che comunque dipende dall'assessorato regionale della salute non il direttore all'azienda sanitaria in quanto organo regionale è chiaro che si deve cercare di accontentare tutti e si poteva anche paventare il rischio di avere per esempio un declassamento della cardiologia di non avere il punto nascita di avere un declassamento della pediatria allora è chiaro che la battaglia sicuramente va fatta e sicuramente al comune di Mazzara del Vallo il sindaco in prima persona vuole che il massimo venga nel nostro ospedale però una cosa va chiarita se non ricordo male perché quando non sono sicuro dicono ricordo male il polo oncologico è frutto di una serie di servizi e di strutture compreso anche la radioterapia il bunker e tutto ma quello che noi abbiamo ottenuto all'interno del piano aziendale che non era previsto è la chirurgia oncologica che seppur struttura semplice perché non abbiamo la chirurgia generale come struttura complessa abbiamo una chirurgia oncologica che seppure come struttura semplice consentirà all'interno dell'ospedale in Mazzara del Vallo di poter fare interventi anche delicati di chirurgia oncologica e questo non era previsto lo dico perché è chiaro che si poteva ottenere di più ma abbiamo cercato di fare il massimo ciò non toglie e mi fa piacere che un consigliere comunale come lei solleva questa questione anche da un punto di vista politico che siccome l'approvazione definitiva del piano è una competenza esclusiva dell'assessorato regionale della salute e dell'aggiunta regionale è chiaro che sotto l'aspetto politico se qualcosa ancora in più si può fare rispetto a quello che è stato approvato a trappare la scorsa settimana sicuramente dobbiamo cercare di mobilitarci in questa direzione grazie grazie all'assessore non vedo iscritti a parlare la dottoressa Marino vuole dare delle delucidazioni grazie no è qui è presente consigliere la grutta vorrei rispondere alle sue perplessità per l'epilogare riguardavano quattro fatti specie il patto di stabilità la delibera sulle azioni positive le spese di rappresentanza e le rapporti con la felice ambiente perfetto allora per quanto riguarda intanto premettiamo sempre il concetto che le misure correttive non sono una rettifica del rendiconto perché il rendiconto è un atto che è stato approvato è stato consolidato è stato riconosciuto dalla Corte dei Conti è chiaro che sono emersa le criticità la Corte dei Conti con queste misure correttive vuole invitare gli enti ad apporre azioni ovviamente nel futuro non si può tornare nel passato delle azioni sul futuro che siano correttive di certi comportamenti che hanno comportato queste criticità nel passato per cui l'ente oggi si può ritenere apportare queste modifiche solo in termini previsionali e quindi parlare dei bilanci futuri e non certo sui rendiconti del passato per quanto riguarda il patto di stabilità la Corte dei Conti aveva sollevato questa criticità in fase di adunanza l'adunanza a cui ho partecipato io personalmente abbiamo relazionato su questo fronte in maniera molto dettagliata e la Corte dei Conti ne ha presa atto infatti nella parte precedente a quello che ha letto lei la Corte dice l'amministrazione il Comune nella memoria ha precisato che le fatture non pagate hanno importi relativamente modesti eccettuata una di euro 233.000 per la quale essendo pervenuta il 19 dicembre non è stato possibile procedere al pagamento in un anno la criticità può essere superata lo dice la Corte dei Conti non lo dico io per cui poi la Corte dei Conti è chiaro che dice attenzione però vi allerto su questa problematica ma per quanto riguarda il 2013 la Corte dei Conti dice la criticità può essere superata per quanto riguarda poi le spese di rappresentanza l'allegato di cui lei non ne vede contenuti non li vede perché non c'è nella delibera se lei guarda la parte di delibera non riporta di approvare le spese di rappresentanza cosa che è obbligo che sia invece allegata alla delibera di consiglio è chiaro che è una spesa di rappresentanza che andava ratificata dal segretario generale e dal revisore dei conti e per cui voi ve li ritrovate esattamente sulla delibera di consiglio dopo la ratifica del revisore dei conti quindi nella proposta di delibera c'è il prospetto delle spese di rappresentanza spese di rappresentanza che anche per il rendiconto 2013 portano diciamo criticità anche se le dobbiamo virgolettare perché già nel 2012 l'amministrazione aveva chiarito perché queste spese avevano o meglio non avevano rispettato per modo di dire questo limite il limite che nasce fin dal 2009 è chiaro che le spese di rappresentanza come quelli degli esperti anzi diciamo che la fattispecie riguarda più gli esperti per la spese di rappresentanza l'amministrazione aveva sottoscritto dei contratti prima del 2009 al momento dell'insediamento dell'amministrazione per cui tali spese erano riperite a contratti in essere per cui non potevano essere revocati e la stessa corte dei conti lo dice che laddove sono contratti in essere devono essere comunque portati avanti l'amministrazione proprio in virtù di questa diciamo così criticità si è dotata quest'anno di un atto ricognitorio rispettando tutte le prescrizioni dettate alle varie delibere della corte dei conti e indicazioni normative laddove è stato specificato che l'ente nella sua autonomia può rispettare il limite complessivo e non il limite delle singole voci per cui nel ricalcolare queste voci si è data un limite e sta cercando nel bilancio 2015 di rispettare questi limiti di spesa per quanto riguarda comprese anche le spese di rappresentanza per quanto riguarda la delibera delle azioni positive anche la corte dei conti ha ritenuto superata questa criticità perché abbiamo prodotto l'adozione della delibera di giunta che prevedeva l'approvazione delle misure delle azioni positive con riguardo alle pari opportunità e lo dice la stessa corte dei conti infine l'ente ha chiarito che le misure per le varie opportunità sono state adottate con la deliberazione dell'aggiunta municipale per quanto riguarda i rapporti belice ambiente come lei ha ben detto il bilancio del 2013 è stato per la seconda volta non approvato perché già era stato non approvato l'anno scorso e anche quest'anno nella riproposizione non è stato approvato dai sindaci di conseguenza noi non abbiamo formali rapporti debiti-crediti ma questo non toglie che noi monitoriamo costantemente nei rapporti anche con gli uffici della belice ambiente i debiti dell'ente e i crediti della belice ambiente e se oggi siamo in grado di poter definire questi pagamenti in virtù del rapporto tra pignoramenti pervenuti e debiti maturati e proprio perché diciamo che gli uffici hanno monitorato costantemente tutte le fatture pervenute nei vari anni rilasciando anche certificazioni che sono state avallate anche dal commissario ad acta all'uopo nominato dalla regione per verificare i debiti di belice ambiente ancorché alla data del 31 marzo per cui lo stesso commissario ha appurato quali sono i nostri debiti e quelli maturati a quella data quindi prendendone atto di conseguenza non possiamo dire che sono aleatori diciamo che non possono essere certificati perché manca l'approvazione del bilancio ma questo non significa che siano falsi significa che noi costantemente ci rapportiamo con gli uffici di belice ambiente e tra un dare a avere riusciamo oggi a definire queste partite grazie dottoressa Marascia e dottoressa Marino pensavo dottoressa Marascia che non vedo più scritta a parlare nessuno consigliere la prego presidente giunta consiglieri io poche poche parole per esprimere di nuovo come si fa oramai negli anni una frase nel senso che c'era un film che era ritorno al futuro qua ritorniamo sempre ritorno al passato perché ci troviamo a fine settembre 2015 a parlare ancora di rendiconto 2013 cioè siamo commentando fuori da ogni termine di ragionevole attività burocratica e amministrativa che faccia dire ma di che cosa stiamo parlando anche perché poi le risposte sono sempre dello stesso tipo è un tipo copia e incolla di quello che è successo negli ultimi due anni il tempo è talmente trascorso che oramai cosa vogliate che facciano che si fa siamo a maggio 2015 che cosa possiamo correggere su qualcosa che è successo nel 2013 che era successo già nel 2012 che era successo dal 2011 quindi sono sempre delle correzioni in cui ci troveremo ancora noi dobbiamo approvare il rendiconto 2014 nel momento in cui si approverà il rendiconto nel 2014 sperando che forse non so sia arrivato anche un commissario perché oramai siamo commissariati da tutte le parti anche per i cuccioli che nasceranno manderanno un commissario perché andiamo sempre fuori tempo massimo ma anche lì si dirà ma oramai che cosa dobbiamo fare tanto tutto è passato tutto è trascorso e quindi questi correttivi sono sempre i correttivi che hanno come dire che nessuna conseguenza sul piano sul piano pratico ma io vi vorrei soffermare caro presidente su delle frasi che sono state dette in questa in questa delibera nel senso che si certifica che l'ufficio tributi pur trovandosi in grossissime difficoltà pur mancando del personale e non si riesce ancora a capire come mai da meno sei anni da questi banchi diciamo ma scusate ma perché non portate del personale da quelle parti sono tutti dequalificati i nostri lavoratori nessuno sa usare un computer cioè non si riesce a trovare personale per portarlo nell'ufficio dove c'è bisogno ma non si sa mai perché ma ci sarebbe anche una scappatoia una schiamutaggia una cosa molto semplice di padre da buona famiglia anziché fare l'indegazione a pioggia cominciamo a fare dei progetti cominciamo a dire così come si è fatto per i vigi urbani chi va a lavorare nell'ufficio tributi comincia ad avere un'integrazione anche con progetti pure particolari perché alla fine si scopre che l'ufficio sta integrando i dati che finalmente abbiamo trovato gli evasori allora tutto perfetto già si comincia nel 2013 nel 2015 cosa esce fuori che forse dobbiamo esternalizzare consigliere Mauro ma lei che è mago è da tre anni che lo dice da tre anni che dice ma non è che avete questa intenzione non è che la prossima passo è questo tipo e non è che poi dobbiamo trovare una ditta un'azienda che abbia colori celesti degli occhi il capello deve essere biondo deve essere e il tempo passa per questo tipo io ho delle mie perplessità in questo genere di cose perché da tre anni che dico guardate che sono due i servizi che devono essere completamente modificati e ampliati l'ufficio tributi è l'ufficio tecnico ma veramente è difficile portare le persone dentro oppure non si vuole fare volutamente lasciando perdere le altre cose io non gli facevo queste sue pericolialità prossimamente chiederò a lei quello che succederà nelle prossime nella burocrazia del Mazzarese perché credo che sia una spesa molto minore rispetto a quella che si dovrà affrontare se si comincia a dire agli articolisti che sono persone che sanno usare tutti i media sanno usare le compiere dei programmi ma date che se anziché non dico non lavorare non lo dico dico anziché stare dove state magari con i tempi moderni potete andare a fare un servizio anche se c'è il problema del contatto del pubblico che è quello che nessuno vuole fare perché poi alla fine i problemi seri è che nessuno vuole essere a contatto con la gente a tutti piace stare nelle stanze dove si può chiudere non c'è nessuno che ti viene a chiedere delle informazioni a chiedere delle risposte ma qui io leggo che nel 2013 consuntivo quel servizio pur avendo tutte quelle carenze e dopo due anni non capisco perché queste carenze a livello amministrativo non sono state completamente sostituite ti dice che il servizio comincia a funzionare avete trovato evasori avete trovato evasori dell'acqua avete cominciato a ridurre tutte le varie evasioni che ci sono da tutte le parti allora comincia a funzionare mandateci dalla gente vediamo che forse non c'è bisogno di chi abbia i colori dei capelli gialli degli occhi verdi e che magari sia molto vicino dell'amico dell'amico grazie presidente grazie a lei consigliere non vedo più nessuno iscritto a parlare metto in votazione il punto 43 come punto aggiuntivo all'ordine del giorno che favorevole sia seduto che contrario sia alzi che senuto di gari favorevole randazzo non rito consigliere consigliere randazzo gentilmente vi chiedo prendere posto che siamo in fase votazione consigliere ma non è fuori o dentro mi faccia capire io sto mettendo in votazione è dentro o fuori gentilmente favorevole non rito randazzo giacalone giuseppe dannibale impeduglia gentilmente consigliere randazzo che non rito gentilmente potete prendere posto perché il consigliere Mauro si lamenta per favore giacalone sidonia pernice caruso foderà tumbiolo caiazzo zizzo di gregorio marascia foggia astenuto il presidente un attimo consigliere foggia che devo mettere in votazione una cacosa se passo presenti sedici quindici favorevole uno astenuto il punto numero 43 passa metto in votazione l'immediata esecutività che favorevole sia seduto che contrario sia alzi che su te lo dichiari la stessa votazione passiamo al punto numero 3 all'ordine giorno riconoscimento debito fuori bilancio derivante dal verbale congelazione del tribunale marsala nella causa promossa numero 964 2013 promossa da Calderone Pietro comune Mazzara e Vallo presa d'atto prego l'assessore illustrare l'atto il riconoscimento di un debito fuori bilancio che deriva da un verbale di conciliazione del tribunale di Marsala in una causa promossa da una signora una certa signora Piera Calderone contro il comune di Mazzara questa signora percorrendo una strada esattamente via Ippolito di Ippolito a seguito di una di una buca e quindi avendo creato avendo trovato un insidio o un trabocchetto vi è finita dentro e il comune è stato condannato a pagare 4.900 euro più oltre interesse legale e ai 2.000 euro per quanto riguarda le spese liquidate nella Lito e tutto ciò avviene soprattutto perché nel verbale di udienza del 20 gennaio 2015 il giudice ha dichiarato la definizione transattiva della procedura è dato che il presente verbale e l'articolo 185 del codice di procedura civile costituisce titolo esecutivo nei confronti del comune di Mazzara per il pagamento delle somme di cui ho detto poco fa quindi invito io i consiglieri a discutere e votarlo come ritengono grazie assessore segretario per i pareri parere di regolarità tecnica favorevole contabile favorevole dando atto che il debito è stato pagato con registrazione al bilancio collegio dei revisori parere favorevole la commissione prima commissione consigliare parere favorevole all'unanimità questo è la commissione pure apro la discussione generale consigliere Mauro prego grazie signor presidente debbo purtroppo denunciare pubblicamente il suo comportamento lei ha violato il regolamento lei ha consentito io non ho violato nessun regolamento consigliere Mauro mi faccia parlare mi faccia parlare lei parla quando lo dico io lei parla quando lo dico io lei parla quando lo dico io mi faccia parlare mi faccia parlare e nessuno si permette di dire che è pazzo sta a parlare nei miei confronti in questi tempi consigliere Mauro è pazzo consigliere Mauro gentilmente pazzo lo dica a qualche pazzo mi facci parlare si rivolga a me consigliere Mauro lei ha violato il regolamento lei ha consentito a gente che era fuori di entrare in quest'aula erano fuori il consigliere Zizzo il consigliere di Gregorio il consigliere Gaiazzo il consigliere i consigliere di Gregorio e Gaiazzo se vogliono lamentarsi lamentano consigliere Mauro il consigliere lei che era di Napoli ha abbandonato Laura consigliere Mauro lei deve smettere di fare questi giochetti consigliere Mauro non siamo nell'arena consigliere Mauro mi faccia parlare non siamo nell'arena quindi e poi dice la sua non c'è bisogno che dico la mia consigliere Mauro lei ha violentato il consigliere Randazzo consigliere Mauro lei se il consigliere Randazzo è stato violentato lo dica al microfono lei non si può permettere consigliere Mauro lei non si può permettere di dire queste affermazioni il consigliere Randazzo se è stato violentato lo deve dire al microfono nessuno ha consenso il consigliere Mauro a consigliere Randazzo di entrare quindi gentilmente non è perché il presidente lei deve gestire i lavori mi scusi e deve dare la possibilità al consigliere di parlare ma non dire fesserie consigliere Mauro perché sta diventando fesserie io non dico fesserie assolutamente quindi prego io non ne dico ci sono i verbali e c'è il notaio della seduta quindi lei non si può permettere sul notaio cosa che consigliere Mauro ha pure di dire qualcosa sul notaio sul segretario generale lo dica doveva intervenire in fase di votazione e non fare votare lo dica se era illegittimo il segretario lo diceva faccia il suo intervento senza fare nessun il teatro lo fa lei signor presidente il teatro io gestisco il consiglio comunale consigliere Mauro vabbè però mi faccia lei parla quando le dico io consigliere Mauro forse non ci siamo capiti lei forse non ci siamo capiti che lei parla quando le dico io no ci siamo capiti perfettamente allora prego lei mi ha dato la parola faccia il suo intervento e mi ha dato 150 volte prego faccia il suo intervento 150 volte allora io ho detto delle cose e le ribadisco lei ha violato il regolamento sistematicamente consentendo a gente che era fuori di entrare a votare in fase di votazione non può più entrare nessuno e lei questo atteggiamento va bene consigliere Mauro faccia la denuncia che deve fare consigliere Mauro no mi scusi siamo qua a aspettare le sue denunce come sempre io per la denuncia dei suoi comportamenti lo veremo in un'altra delibera non oggi non ora perché avrò modo di denunciare lei e altri soggetti detto questo lei mi vuole denunciare consigliere Mauro per la prima volta mi faccia parlare lei io le denunce non le conosco consigliere Mauro mi fa parlare lei vuole denunciare me me lo dica perché mi vuole denunciare io ho detto lei lo deve dire quello che sta dicendo lo ripeto al momento giusto lo farò ah va bene consigliere Mauro quindi vada al suo intervento in questa fase mi faccia parlare perché mi ha interrotto 40 volte non lo riesco lo posso interrompere pure 50 volte non sei mai prego allora io vorrei che questa votazione da parte del segretario generale venisse attenzionata e come dire supportate e suffragate anche dalle riprese televisive dove si vedono gente che entrano dopo aver messo la delibera in votazione io ritengo che tutti ci sono tutti i rischi per invalidare questa votazione per invalidare questa votazione ci sono le riprese consigliere Zizio consigliere Zizio consigliere Mauro intendo fare la conclusione gentilmente io vado alla conclusione consigliere Zizio per favore abbiamo capito che vuole strumentalizzare questa votazione poi c'è il notario state serene tutti io non strumentalizzo niente eh vada avanti non è mia abitudine io porto a conoscenza del consiglio della città che questo voto è un voto pirata che è un voto che non si poteva fare così come è stato fatto perché ne ha violato il regolamento perché in fase di discussione anzi in fase di votazione nessuno può più entrare in consiglio comunale e lei ha consentito che cinque consigliere comunali entrassero in consiglio grazie consigliere Mauro consigliere Randazzo prego il consigliere Randazzo perché è stato chiamato in ballo quindi visto che sono stato chiamato in casa premetto che conoscendo le sue preferenze sessuali lei non è in grado di violentare nessuno in questa sala detto questo detto questo io a modo di chiarimento nel momento in cui è stata aperta la votazione io avevo appena avvalcato il cancelletto ho chiesto cortesemente alla presidenza di elencare per primo il mio voto favorevole all'atto per poi riuscire di nuovo visto che avevo alcune esigenze che mi avrebbero portato ad abbandonare l'aula poi successivamente lei ha richiamato di nuovo il mio nome io sono rientrato quindi qui nessuno era assente grazie il consigliere il suo chiarimento consigliere dombiolo prego gentilmente siamo sul punto 3 l'ordine del gioco ringrazio presidente giunta colleghi consiglieri cittadini no alcuni chiarimenti intanto annuncio il voto favorevole da parte della maggioranza su questo debito fuori bilancio ma mi preme presidente e mi auguro che lei adesso me ne dia l'opportunità perché non sono voluto intervenire prima per far sì che un atto di fondamentale importanza dell'amministrazione venisse portato a votazione che dire stasera se ne sono sentite di tutti i colori se ne sono sentite di tutti i colori e prima di tutto voglio estendere la mia vicinanza al consigliere Foggia che non vede in aula che ha sollevato un problema molto importante come quello dell'ospedale e mi unisco anch'io a ciò che ha detto l'assessore e spero e sono sicuro che l'amministrazione farà di tutto il possibile per far sì che a Mazzara arrivino le migliori eccellenze su tutti i reparti compreso quello di radiologia che sta a cuore al consigliere Foggia ma anche alle altre branche perché sono sicuro che questa amministrazione per come è riuscito a ottenere un grande ospedale riuscirà a ottenere anche delle grandi eccellenze sulla spazzatura consiglieri consigliere Dombiolo gentilmente lei aveva detto la chiusura che si sarebbero potute fare nelle precitazioni sulla spazzatura vanno dette tre cose fondamentali sarò velocissimo ma vanno dette si può dire tutto controversie non controversie però sono sicuro che tutti siamo d'accordo di una cosa la spazzatura i rifiuti devono essere levati dalle strade quindi qualunque problema personale ci possa essere qualunque problema personale ci possa essere non si arriva a togliere e a interrompere un servizio pubblico qualunque discordia ci possa essere fra le persone non si può in nessuna maniera interrompere un servizio pubblico a maggior ragione al comune di Mazzara che negli anni passati e voi ne siete testimoni grazie al comune di Mazzara il servizio in tutta la provincia veniva erogato perché il comune di Mazzara era il più puntuale era colui che pagava per primo ed era colui che pagava per più di tutti e quindi non accetto che il comune di Mazzara abbia subito questa offesa è un'offesa gravissima che il comune non meritava proprio perché era il comune più virtuoso sulle contestazioni delle fatture penso che nessuno possa metter becco è normale che questa amministrazione se si vede addebitata delle fatture con dei servizi che non sono stati mai resi deve contestarle questa amministrazione non ha mai detto di non essere debitore nei confronti di abilici ambiente contesta i numeri che sono molto 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 diversi e quindi è giusto che vengano fatte le contestazioni pignoramenti in futuro mi auguro di no perché se no il bilancio delle casse comunali francamente non ce la farebbero e concludo invitando tutti i consiglieri comunali a non usare termini che non vanno utilizzati taverna il notaio che non compie bene il suo dovere il presidente che commette degli atti illegittimi chi ha da denunciare delle cose le denunci presso gli organi preposti ci sono le registrazioni del consiglio comunale che possono eventualmente avallare e testimoniare ciò che viene detto ci si prenda la responsabilità di quello che si dice però a un consigliere me lo lasci passare poco fa ha detto che era sordo io più che sordo gli consiglierei un oculista perché evidentemente non si è reso conto che i numeri c'erano in aula e invece dice che non c'erano tutt'al più gli consiglio l'oculista perché ha anche inavvertitamente perché sicuramente l'ha fatto sicuramente inavvertitamente ha anche investito un consigliere comunale che voleva sedersi il consigliere povero Zizzo che si stava andando a sedere trovava un ostacolo nel sedersi quindi sicuramente problemi di vista nei confronti del consigliere vada all'atto l'atto sicuramente verrà votato l'atto sicuramente verrà votato l'atto sicuramente verrà votato positivamente la maggioranza e concludo dicendo che non si tratta di nessuna magia perché ho sentito che qualcuno è un mago ha previsto che i futuri servizi verranno esternalizzati no probabilmente il consigliere Mauro e facendo da tanti anni il consigliere comunale si è accorto che da anni e anni si deve divorciare la presidenza da anni e anni e anni e anni questo ufficio tributi nonostante le integrazioni veniva e ripetutamente non ottemperava e quindi bisogna fare di necessità con il suo intervento con Cesefina prego stasera guardi signor Presidente sono rimasto meravigliato perché lei durante e possiamo vedere le riprese televisive anche perché vocalmente si sente la sua voce purtroppo ha una bella voce grossa che chiama durante la votazione dei consiglieri che sono fuori attenzione non voglio dire che questi consiglieri volevano o non volevano votare però si trovavano materialmente fuori lei sta dicendo che ho chiamato consigliere fuori sì sì io ho chiamato consigliere fuori forse se lo si è dimenticato però mi faccia parlare Presidente allora lei durante la votazione ha fatto dei nominativi non è che ve lo sono inventato io i nominativi per la votazione ho fatto i nominativi per la votazione i consiglieri lei si metta si accomodi si accomodi perché stiamo votando ma possiamo riprendere queste cose attenzione ognuno è libero di esprimere le proprie parere qua dentro non è obbligato qualcuno ha detto qualcuno ha detto che è stato costretto a votare però va bene sono altre cose qualcuno ha detto nel passato lasciamo perdere non è stasera l'argomento che dobbiamo intraprendere ancora però Presidente mi raccomando quando uno è fuori magari per i motivi suoi non c'è bisogno che lei fa un maestro di turno che li chiama per fare le mette a sedere siamo tutti maggiorenni e siamo qua per votare e se uno è fuori è perché è fuori non per essere richiamato per votare dentro e il numero non c'era per votare io chiedo a tutti per rimettere le cose a votare che siamo tutti sereni adesso di rifare la votazione signor Sindaco signor Sindaco lei è qua presente e mettiamo a tacere tutto notario della seduta sono state delle cose non capite bene e io ripropongo la votazione così mettiamo tutto a tacere grazie grazie a lei con Gesafina con Gerarina prego grazie Presidente giunta consiglieri io esprimo intanto il mio voto negativo visto che stiamo parlando di un atto deliberativo all'atto stesso però per la prossima volta Presidente se è possibile forse non si sente per la prossima volta le consiglio in maniera così serena che magari avvisi i consiglieri che stanno fuori si entri in aula perché si sta per votare perché nel momento in cui lei dice metto in votazione metto in votazione nessuno può entrare da quel cancello nessuno può entrare da quella polis soltanto chi è dentro può votare e io non voglio entrare in una polemica che è sterile all'interno di questo punto perché le posso assicurare che potesse non ci veda nemmeno io ma io ho visto con i miei occhi quando lei mette in votazione consiglieri comunali che hanno votato che non erano in votazione questo lo posso assicurare e non nel caso per la prossima volta chiedo al segretario che scriva esattamente chi esce chi entra in aula in quel momento in quel momento io voglio sapere in quel momento chi c'era in aula trovando un modo anche facile perché lei poteva soltanto dire consiglieri è entrata che stiamo per votare ma non è niente in cui le mette in votazione l'atto dalla qualla porta non può entrare nessuno da quella volta non può entrare nessuno io ero già uscito e sono stato pure investito altri che non vedono da chi è entrato da fuori e l'atto era già in votazione quindi noi mettiamo i puntini su una cosa che ci può anche stare perché alla fine è una piccola però ora entrando nell'atto quindi non voglio continuare queste pieghe e poi ci lasciate anche costringere Presidente e liberi di poter esprimere le nostre parole i nostri pensieri che non vi fanno piacere se non ci date nemmeno questa piccola soddisfazione ma che ci veniamo a fare qua a stare qualcuno gli ha detto di non parlare rispondendo perché non sono abituati a fare opposizione essere in minoranza sembra che abbastanza si hanno sempre ragione ma noi non siamo qua per perdere tempo perché ora sempre sull'atto sugli atti di questo tipo io vorrei chiedere se qualcuno in questo atto però mi dica se questa signora anziché andare a fare un atto di infusione era magari arrivato a fare una conciliazione con il Comune ha chiesto dei somme un danno di 2.000 3.000 e il Comune ha detto no perché si arriva a fare un processo per avere dei danni che costano si può avvicinare un po' il microfono perché non si registra nella fattispecie così come tutti i temi di fondo ci troviamo di fronte che per la sorte per i danni si paga la metà dell'importo complessivo cioè è normale che si arrivi quando c'è una certezza che questa signora nella fattispecie abbia avuto un danno provocato da inadembenza nella manutenzione stradale di qualsiasi tipo si deve fare un processo in cui 3.800 euro sono per la sorte per i danni e 4.000 euro sono per tutte le spese legali e tutto quello che c'è cioè quando chiedo io in questa delibera in tutte le altre delibera mi potete mettere esattamente quanto ha richiesto questa signora per il danno ha fatto una richiesta a questo Comune io voglio 3.000 euro 4.000 euro perché alla fine non vorrei che attorno a queste vicende ci sia anche un momento di di sbarrimento perché se tu le metti a fare una conciliazione è di 3.000-4.000 euro la signora sicuramente accettava perché alla fine non è che ha peso molto di più ma quando se ne perde il doppio per tutte le spese che ogni volta sono a carico del Comune io chiederei che si attivasse una specie di ufficio di conciliazione da parte dell'amministrazione con i nostri legali per cercare di non portare queste conseguenze sempre andare il giudice che poi ti raddoppia se ne sono ancora più grossi ti raddoppia questo tipo di spesa grazie Presidente grazie a lei Consigliere Consigliere Grutta prego grazie Presidente allora in merito al punto all'ordine del giorno condivido in pieno quanto quanto testa detto dal consigliere che mi è appreciuto al consigliere Arena perché in effetti credo che per l'ennesima volta sia come dire non sia bello vedersi arrivare un debito fuori bilancio con queste cifre probabilmente dovremmo intervenire in qualche maniera perché continuamente vediamo che dobbiamo pagare il danno e poi anche in aggiunta molte volte le spese legali insomma sono molto più addirittura che il danno la manutenzione stradale di questa città deve essere assolutamente curata meglio la Corte dei Conti ci dice nella relazione che abbiamo poc'anzi trattato in concomitanza con l'atto debitativo precedente che è evidente che la programmazione la programmazione in questo comune vista visto l'eccessivo verificarsi i debiti fuori bilancio non è assolutamente ottimale io questa cosa per quale motivo perché ci sono delle cose anche pergresse se in certe vie che ho segnalato più volte via Sanremo via Malpensa ma non solo queste anche altre ci sono delle criticità che segnaliamo da mesi alcune da anni non si interviene poi succede che magari qualcuno si fa male e arriva il debito fuori bilancio da pagare e dico è più opportuno pagare migliaia di euro per una buca che rega un danno oppure basterebbe fare intervenire una squadra programmando ecco perché invito l'amministrazione comunale il settore dei lavori pubblici e il vice sindaco Buonanno che devo anche palesare una cosa importante io ringrazio ringrazio che ho trovato ho trovato il vice sindaco in determinate occasioni recenti in cui siamo stati in riunioni insieme per quanto attiene alla situazione dei rifiuti un atteggiamento vuol dire non spigoloso ma morbido che forse è stato quello che ha determinato quel minimo di dialogo che ha fatto scaturire tutto quello che è venuto fuori quindi da questo punto di vista un apprezzamento gentile corretto per quanto riguarda invece i debiti fuori bilancio e quindi la mutazione delle strade credo che ci sia qualcosa da fare invito l'amministrazione comunale a stilare un elenco di tutte quelle che sono le criticità segnalate vi assicuro che io ne ho segnalate tante ma anche molti altri consiglieri e verificare di intervenire non certo per somma urgenza ma verificare tutte queste somme urgenze e fare diventare come dire un programma un progetto un qualche cosa che sappiamo che comincia adesso e finisce fra 60 giorni in modo tale che tutte le strade cittadine vengono rattoppate le buche e poi io chiedo risposta anche di quell'interrogazione precedente per cui la segnalità orizzontale in questo momento in questa città tutte le strisce comunali no? alcune sì alcune no tutte inistintamente stanno scomparendo non ci sono più sono scompasse stesso dicasi per le linee di mezzeria delle strade ho posto un'interrogazione su questa cosa specifica ma vero che non si riesce a pigliare una lanna di vernice e a risinteggiare e a rimettere in senso tutta la segnalità di questa città perché se poi c'è un incidente se poi c'è un pedone che sotto riteneva di avere le strisce e viene investito viene fuori un contenzioso che dobbiamo pagare da un sacco di danni e poi mi permetta una piccola breve parentesi visto che c'è il dirigente in aula una precisazione volevo comprendere una cosa interrogo il dirigente dottoressa Stella Marino per comprendere una cosa che non ho ben chiaro o meglio ho intuito alcune cose volevo precisarle e capirle bene in assenza di bilancio di previsione 2015 approvato non ricordo che purtroppo siamo al 28 settembre 2015 il bilancio di previsione di quest'anno ancora nemmeno il consultivo 2014 ma lasciamo stare in assenza di bilancio di previsione approvato il comune è tenuto per legge a spendere in dodicesimi sì o no mi riservo successivamente alla risposta negativa o positiva di far rilevare una cosa a tutto il consiglio consigliere non è all'ordine del giorno questa sua domanda comunque se il dirigente vuole rispondere è importante comunque vada non ce lo prevede la stessa norma che in esercizio provvisorio la spesa in dodicesimi salvo a dichiarare che la spesa non è frazionabile grazie consigliere suggerisco di verificare una cosa perché appunto in quell'albopratorio ho letto una delibera una determinazione del dirigente la numero 522 del 3 luglio 2015 in cui c'è scritta una cosa si tratta dell'affidamento del servizio di trenino turistico con mano non è all'ordine del giorno siamo sul debito fuori bilancio mi può parlare di accede libera quindi quando arriverà questa delibera noi possiamo affrontare alcuni secondi per delle precisazioni siccome non è il momento giusto quindi vada alla conclusione del suo intervento non è in ordine del giorno questa se vuole fare qual è faccio una nota al dirigente e il dirigente gli risponde vada alla conclusione così siccome possiamo spendere solo i dodicesimi nella determina sesta c'è scritto che praticamente dando atto che non viene rispettato il dispositivo dell'articolo 163 del decreto legislativo 267-2000 il testo 1 degli identi locali nonché dell'articolo 4 con 3 e 7 del vigente regolamento di contabilità ovvero che si deve spendere in dodicesimi ma che la promozione del turismo fa parte del programma del sindaco si impegna questa spesa quindi si dovrebbe spendere in dodicesimi ma la spesa impegnata per il trenino supera i dodicesimi e si dice che andiamo in deroga alla norma grazie perché è il programma del sindaco ma il programma del sindaco supera le leggi io non vorrei chiarita questa cosa la vorrei capire credo di no grazie grazie a lei consigliere il suo intervento non vedo più nessuno iscritto a parlare sul punto 3 all'ordine giorno gentilmente il consigliere prendere posto metto in votazione il punto 3 all'ordine giorno il riconoscimento debito fuori bilancio derivante dalla verbale di conciliazione del tribunale di Marsala nella causa 964 2013 promossa da Calderone Piera contro comune Mazzarevallo presa d'atto che favorevole si è seduto che il contrario si alzi che è sotto lo dichiaro consigliere l'arena lei contrario allora arena contrario signori siamo in fase di votazione gentilmente favorevole Zizzo Foderà Randazzo Norrito Tumbiolo Caruso Pernice Giacalone Isidonia Impeduglia Dannibale Giacalone Giuseppe Safina Marascia Di Gregorio Gaiazzo contrario il consigliere di adema favorevole di adema astenuto il consigliere Alestra e il presidente si dubbio lo favorevole 16 favorevole uno contrario due astenuti il punto numero tre passa metto in votazione l'imitato esecutività che favorevole si è seduto che il contrario si alzi che se non lo dichiari la stessa votazione passo al punto numero quattro all'ordine del giorno riconoscimento debito fuori bilancio derivante alla sentenza 226 2015 pronunciato il tribunale di Marassane nella causa promossa da Trinca Giovanni Battista più due contro comune Matteo del Vallo presa d'atto prego assessori illustrare l'atto anche quest'atto è un debito fuori bilancio rientra nella pattispecie dell'articolo 194 del decreto legge 267 del 2000 e a seguito di un tombino saltato un'autovettura percorrendo il lungomare la ruota posteriore finisce dentro il tombino e scoppiano gli alberghi ci sono danni meccanici e danni ai trasportati siamo stati condannati con sentenza a pagare la somma complessiva di 7900 euro globale omnia di cui ci sono una parte quasi 4000 euro per sorte in quanto più di una persona si è fatta male e il resto sono il riconoscimento dei demorari invitati dal giudice ora vedete cari consiglieri l'istituto della della transazione esiste ma spesso e volentieri non è facile poter transare una richiesta di un danno in una sede extra giudiziale perché la gente il danneggiato l'attore prova immediatamente a chiedere la luna nel posto e questo purtroppo nei dirigenti né tantomeno l'amministrazione con un comportamento da buon parte di famiglia e nelle condizioni di poter addivenire ed accettare questa richiesta l'offerta molto sicuramente si fa la controfferta ma non si arriva mai a conclusione ecco perché si arriva ad addire le vie legali ecco perché si arriva ad aspettare la sentenza da parte di un giudice il quale avvalendosi dai consulenti tecnico di ufficio quelle che possono essere gli ingegneri per i danni a cose o i medici legali per i danni alla persona a questo punto noi ci possiamo difendere ma veniamo in questo caso condannati quindi l'estudio della transazione esiste è molto difficile poterlo attuare e noi ci proviamo ma quasi sempre finisce in questo modo ed è purtroppo una realtà che non è presente solo e esclusivamente nel comune di Mazzano ma vi posso assicurare che in tutto il paese Italia esistono i debiti fuori bilancio combinati in questo modo grazie assessore mi dia la delibera prego segretario per i pareri parere di regolarità tecnica favorevole contabile favorevole collegio dei revisori favorevole commissione consigliare prima favorevole ad unanimità grazie segretario apro la discussione del generale consigliare l'estudio prego grazie presidente amministrazione colleghi consiglieri cittadini l'assessore ballatore fa presente giustamente che spesso è difficile pagare questi debiti attraverso delle transazioni però non per ribadire sempre le stesse cose ma come diceva poco fa il consigliere Lagrutta se il tombino invece di essere saltato fosse stato messo al suo posto questo incidente triplo incidente non si sarebbe verificato una buona amministrazione si definisce così quando riesce ad amministrare la normalità delle cose quello a cui abbiamo assistito in questi giorni non è normalità e non mi si deve venire a dire che le colpe non stanno da questa parte ma soltanto dall'altra parte i cittadini non vogliono sapere questo i cittadini hanno visto lo scempio in cui abbiamo vissuto in questi giorni nella nostra città quindi è troppo comodo scaricare sugli altri le responsabilità bisogna assumere quelle proprie perché io mi chiedo se negli altri comuni che fanno capo al lato belice la situazione è la stessa questo me lo chiedo e lo chiedo anche ai nostri concittadini che invece hanno riscontrato cose ben diverse negli altri centri della provincia Presidente io devo dire con molta amarezza che questo consiglio comunale i lavori di questo consiglio comunale sono molto strani perché veda io sono abituata sia perché non è la prima volta che sono consigliere comunale ma anche perché ho sempre seguito la politica cittadina che gli scontri sono sempre su temi politici di un certo spessore e diciamo che difficilmente poi succede che solo perché si è contrari a determinate posizioni bisogna sentire certi termini che tra consiglieri comunali non dovrebbero esistere e questo lei Presidente deve assicurare che non esista perché idiozia faziosità io poco fa ho sentito dire al consigliere comunale Mauro sei pazzo fuori dai microfoni ma è la stessa cosa quando io ho fatto un intervento molto accalorato e sono stata applaudita dai consiglieri comunali dell'altra parte così come se uno che esprime un parere di scordio di forme rispetto a quella che è la ideologia o la posizione della maggioranza debba essere sempre sottolineato con sarcasmo o peggio con parole offensive non è questa la politica Presidente non è così che si fa politica ci possono essere scontri dialettici ci possono essere posizioni diverse e ci mancherebbe altro ma sui toni della politica si fanno gli scontri non sulle offese personali io non sono idiota non mi sento idiota nella maniera più assoluta quindi le idiozie che vengono dette da questa parte io la prego di fare in modo che non si usino più questi questi termini rispetto alla votazione che c'è stata poco fa Presidente mi dispiace tornarci non è non è stata assolutamente una votazione fatta nella correttezza dei modi perché chi è in aula vota chi non è in aula non viene richiamato è libero di entrare di uscire di fare quello che ritiene opportuno non viene chiamato a votare e spero che su questo che queste cose non si debbano più ripetere Presidente io volevo dire una cosa ho notato che sotto il ponte che collega il centro cittadino con col trasmazzaro ci sono delle bancarelle di marmo con delle bellissime ceramiche che sono state affisse ma dico io una cosa ma a che cosa servono queste bancarelle lì cioè a che cosa serve che io non capisco gentilmente bisogna chiedersi Presidente l'utilità delle cose perché io su quelle del centro storico ok d'accordo hanno un loro motivo di essere hanno un loro significato hanno abbellito la città ma me lo dice sotto il ponte di Mimì che cosa ci sta a fare la mattonella in ceramica cioè una città allo sbando sporca piena di spazzatura un fiume che non viene dragato e si mettono le mattonelle sotto il ponte cioè io mi chiedo se questo è modo di spendere i soldi dei cittadini cioè i soldi nostri i soldi pubblici i soldi vostri carissimi concittadini io questo me lo chiedo ma se lo chiede anche la città grazie Presidente grazie a lei consigliere Alestra prima prima di dare la parola a consigliere Randazzo se è stata detto fatto questa affermazione ai confronti del consigliere Mauro io a nome mio a nome del consiglio comunale gli chiedo scusa quindi accetti le mie scuse e spero che la prossima volta non si verificano più di queste affermazioni fra i consiglieri comunali ha chiesto di parlare il consigliere Randazzo prego ne ha facoltato per l'assessore Bonanno Presidente Giunta colleghi consiglieri comunali e cittadini questo debito fuori bilancio è uno di quei debiti che presentava come oggetto un piccolo incidente capitato ad un nostro concittadino nella fattispecie un nostro cittadino che voglio elencare il nome mentre percorreva il lungomare Mazzini direzione di marcia lungomare San Vito subiva l'autovettura un notevole contraccolpo a causa di un tombino fognario scoperchiato e non visibile approfitto del tema per intanto annunciare la mia astensione sull'atto deliberativo come su tutti i debiti fuori bilancio che riguarderanno tombini scoperti perché questo e approfitto anche della presenza dell'assessore Bonanno tempo addietro presentai in consiglio comunale una mozione peraltro approvata all'unanimità dei presenti che prevedeva un sistema alternativo ai cosiddetti tombini inghisa che vengono utilizzati oggi dal comune di Mazzate del Vallo con notevoli costi basta pensare che una semplice sostituzione di un tombino si aggira intorno alle 500 700 euro circa se non erro ecco ora approfittando dell'assessore Bonanno visto che questa mozione è stata approvata visto che altri comuni italiani si sono adoperati affinché venissero utilizzati questi tombini in materiale particolare dal costo di 50 euro compreso di IVA ciascuno idoni alla circolazione stradale anziché pagare questo scempio di ricorsi di delibere attiviamoci affinché l'ufficio tecnico possa sostituire questi tombini in ghisa ormai superati dalle nuove tecnologie in maniera tale che non possono accadere più questo genere di risarcimenti provvedimenti di ricorsi da parte cittadina attendo notizie in merito da parte dell'assessore grazie a lei consigliere andazzo assessore buonanno prego grazie presidente non è mia abitudine fare polemica ma voglio fare chiarezza su quello che è stato dichiarato poc'anzi da un consigliere comunale che Mazzara è una città sporca perché l'amministrazione in pratica non funziona forse non si è compreso che qui c'è stata un'interazione pubblica del servizio cioè c'è stata un'interazione del servizio pubblico e adesso c'è un articolo su Live Sicilia che adesso io leggo che dice che il sindaco Damiano è indagato per aver chiuso la discarica per 24 ore per interruzione di pubblico servizio ma di che cosa stiamo parlando? ma di che cosa stiamo parlando? non è che il comune di Mazzara e Vallo ha chiuso la discarica i conteggi sono tutt'altra cosa che vanno fatti in altra sede allora bisognava fare i conteggi ma non si chiude una discarica per otto giorni e si impedisce si impedisce di conferire i rifiuti non soltanto nella discarica di Campobello ma anche nelle altre discariche e anche nelle altre discariche e qua mi si viene a dire che la città di Mazzara e Vallo è sporca l'amministrazione non funziona ma di che cosa stiamo parlando? io non accetto queste provocazioni io di solito parlo con molto garbo e credo di aver reagito in questa settimana con coscienza conoscendo le difficoltà degli occupatori ecologici del lato abelice ambiente conoscendo anche le difficoltà dei conteggi conoscendo anche le cattive comunicazioni tra il comune e il lato abelice ambiente non voglio entrare in merito cioè noi qui parliamo di fatture rigettate o rifiutate non so se sono stati i termini tre mesi fa e il lato abelice ambiente non ha risposto ha risposto soltanto dopo tre mesi durante l'assemblea che si è tenuto il 22 settembre quindi adesso io non voglio entrare in questo mese ma non è che si può chiudere una discarica perché i conteggi non sono perfetti o sono contestati ma non esiste una cosa del genere è colpa del comune ma poi adesso parlare sempre di colpa colpa parliamo di responsabilità perché qua dentro mi sento dentro un tribunale la colpa la colpa responsabilità ci sono delle responsabilità ci saranno responsabilità da parte del comune di Mazzarra e Vallo ma ci saranno certamente altre responsabilità che verranno giudicate da altri organi competenti aspetteremo poi con il tempo grazie presidente grazie a lei assessore consigliere impedutica prego grazie presidente una semplice precisazione in seguito alle mie parole in un momento forse troppo concitato l'ha detto lei non penso che l'ha detto lei sì no presidente è giusto è giusto chiarire io non l'ho sentito le mie non erano le mie non erano delle accuse precise rivolte al consigliere Mauro ma di cui non conosco lo stato di salute quindi non potrei parlarne non essendone a conoscenza consigliere impedutica si rivolta alla presenza assolutamente ma era semplicemente dettato dai modi forse troppo violenti con cui con tanta vemenza stava pretendeva di avere la parola semplicemente grazie presidente grazie presidente il chiedimento del consigliere Beduglia consigliere lei ha parlato su questo punto no prego mi sto confondendo per fortuna vi dono un'altra comunicazione stia tranquillo vi dono un'altra comunicazione io parlerò per ogni attimo a breve avremo la votazione elettronica ogni consigliere comunale avrà il suo tesserino e il suo punto quindi state tranquilli così evitiamo eventuali discussioni prego consigliere grazie presidente io non vorrei rientrare di nuovo in una polemica che riguarda il problema della spazzatura sulla città perché vorrei se soltanto dovessi leggere in consiglio comunale tutte quelle cose che sono state dette in quest'aula negli anni precedenti su chi ha gestito l'aberice ambiente negli ultimi dieci anni altro che chiedere scusa alla città altro che dire di che la responsabilità il problema serio che è l'unica cosa certa e mi dispiace che l'assessore quando ho fatto il mio discorso non era in aula io ho detto una cosa certa c'è che dobbiamo chiedere scusa alla città di Mazzara che sono stati spanalizzati i cittadini di Mazzara le responsabilità sono di tutte e due gli enti non è che dicendo che è mia io non ne ho tu ce l'hai io ho chiesto di nuovo e se oggi questa notte domani mattina arrivano dei pignoramenti di altri 3 o 2 milioni 3 milioni di debiti della Belice Ambiente che fa siamo l'unico comune in tutta la Sicilia che paghiamo i debiti perché essi di una di una scellerata azione amministrativa della Belice Ambiente perché non so siamo altro anziché pagare chi sta lavorando ora paghiamo i debiti pregresti quindi domani arriveranno 2 milioni di pignoramento siamo obbligati a pagare quindi anziché pagare i poveri lavoratori che andranno a lavorare dobbiamo pagare di chi ha combinato tutti questi sfacenti che non è sicuramente il comune di Mazzara che deve pagare questi debiti mentre ci stiamo trovando una situazione in cui stiamo pagando i debiti di chi l'ha fatto negli anni nome cognome non me ne fega niente so soltanto che la città ha sofferto e non è la prima volta e che non siamo treviso e che il costo non è lo stesso di 5 anni quindi non entriamo in questo momento ma sull'atto sull'atto deliberativo mi trovo uguale alla situazione precedente una spesa di 3 un costo di 7 ma la cosa più bella a leggere questo atto sapete qual è il precedente la difesa del comune di Mazzara c'è il problema del comune di Mazzara non è che si è posto perché c'era il tombino ha detto destralmente è notorio che quando piove a Mazzara saltano i tombini quindi la colpa è del conducente che deve pensare quando va sul lungomare Mazzino sul quale San Vito che se piove guardate che a Mazzara è normale che i tombini scoppiano quindi questa è una difesa ma che non è nemmeno pensabile cioè si voleva di scoppare il comune della causa di questo video ma tu non lo sai che a Mazzara lo sappiamo tutti che se tu passi là quando piove scoppia tutto e quindi devi stare attento ma tu non lo sai che in quel periodo visto che c'è stato l'allerta meteo tutto quello che c'era l'illuminazione non c'è ma tu che cosa fai che fai a passare in quel periodo piove senza illuminazione in quel pezzo di strada ma come ti sei permesso non solo e quando non ha potuto fare a me ha detto ma c'era un'altra cosa tu camminavi a 70-80 all'ora per avere questi danni altre autovetture successive hanno dichiarato visto che c'era la pioge che camminavano tutti a 20 all'ora il problema è che il tombino era scoppiato prima ed era rimasto lì quindi anche sulle difese siamo proprio da che se uno legge si mette a ridere è notorio che a Mazzara se piove tutti i tombini scoppiano e se tu c'è un incidente il problema è tuo che non hai previsto che ci può essere un domino che non c'è più cioè come consigliere non fate la conclusione la conclusione è sempre la stessa Presidente noi abbiamo questi debiti che diceva il consigliere la grutta che sono per il 2015 e quindi sono andati in pagate sembra con il bilancio che si deve ancora fare quindi con soldi di questa e che per ogni venente di questo tipo si paga sempre il doppio di quanto poi deve essere esercito alle persone però non facciamo più difese in questo giro perché questa volta quando piove la chiudiamo tutto il lungomare diciamo di qua non si passa perché c'è la possibilità che ci sono i domini che scoppiano e la colpa è vostra grazie di tutte le amministrazioni questa amministrazione si era riproposta giustamente era stata molto critica della precedente nei confronti della prima amministrazione perché allora i debiti erano esorbitanti ma questa amministrazione come dire non ha fatto nulla per ovviare a tale inconveniente e come tutti sappiamo il debito fuori bilancio incide pesantemente sul bilancio comunale credo che si parla di cifre intorno a 500-600-700 mila euro l'anno una cosa folle una cosa folle dove lì si innescano ragionamenti e circuiti che esulano dal semplice danno perché dicono hanno detto bene consigliere le precedute un danno di 100 diventa 500-600 cioè voglio dire non si riesce ad arginare la domanda è questa amministrazione che si proponeva di modificare il corso o come dire il corso di questi debiti fuori bilancio cosa ha fatto? questo sindaco non governa da un anno governa da 7 anni da 7 anni e non si può sempre dire a colpa degli altri questi debiti fuori bilancio nascono da eventi verificati durante la gestione di questo sindaco quindi non dobbiamo smettere col dire che questa è un'amministrazione virtuosa questa è un'amministrazione come tutte le altre se si vuole bella o fallimentare ma come tutte le altre come tutte le altre signor Presidente si sperava come dire in un colpo d'ala e non c'è stato sotto tutti i punti di vista e i debiti fuori bilancio non la sono la fotografia di questa amministrazione come tutte le altre amministrazioni né più né meno senza infame e senza lode per cui non lo sanniamo magari tra un po' qualche sono di turno si prenderà il microfono e dire che tutto va bene non va bene nulla o meglio non va bene quello che si può far capire che va bene signor Presidente perché se la città è sporca come io consiglio l'arena la città è sporca le responsabilità del cittadino interessano poco io ho detto poco fa l'arroganza del potere da qualsiasi parte questo venga visto perché dal mio punto di vista entrambi i soggetti interlocutori hanno le proprie responsabilità e chi ne va di mezzo è il cittadino della città con un'immagine vergognosa che noi diamo alla provincia e anche all'intera nazione per quanto riguarda i turisti che vengono un'immagine vergognosa e si continua a dire che le responsabilità non sono mie sono degli altri la verità è questa la città è una discarica e ce l'ha aperto concludo signor Presidente facendo una piccola notazione credo che in questo Consiglio Comunale spesse volte si vada oltre e si vada anche come dire oltre si vada proprio nell'offesa personale io non voglio replicare a nessuno perché ritengo insomma davvero basso il livello delle offese che sono state fatte a me ma anche nel corso dei Consigli Comunali nei confronti del Consigliere Aleste del Consigliere Arena e credo che lei sotto questo punto di vista debba intervenire perché sono affermazioni di piccolo cabotaggio che devono fare vergognare soltanto che le afferma queste cose e probabilmente chi afferma queste cose probabilmente fa confusione ci sembra che di fronte a qualche parente così ma vada la confusione si deve soltanto vergognare che ha fatto questa cosa io ho chiesto scusa da parte mia del Consiglio Comunale e quindi fare mente locale raccordare raccordare la bocca con il cervello e capire che si trova un contesto diverso rispetto a quello familiare grazie grazie consigliere Mauro consigliere Agrutta prego grazie Presidente io per l'ennesima volta entrando nel merito del punto all'ordine del giorno vorrei arrivare alla base al noccio del problema il problema dei debiti fuori bilancio che vengono fuori con queste cifre io credo che può essere arginato predisponendo e chiedo impegno all'amministrazione comunale so che per una mozione ci vogliono tre firme ma io lo chiedo anche predisporre un piano per rattoppare tutte le buche sistemare tutti i tombini io dico ok la città è vasta magari tutta la città non ci riusciamo però se non cominciamo con un programma diciamo da Viale Africa fino a tutta la via Castelvetrano cominciamo a risistemare tutte queste strade e viuzze e traverse se cominciamo a fare una cosa del genere non si configura più secondo me questa grande mole di debiti fuori bilancio dovuti a incidenti e poi richieste di esercimento danni e compagnia bella e inoltre ovviamo anche a quella che è la criticità sollevata per l'ennesima volta dalla Corte dei Conti che è il Comune di Maservallo risulta non progettualmente pronto per affrontare non sempre in emergenza questo tipo di cose per quanto riguarda le sollicitazioni invece e le spiegazioni udite poco fa io non mi sono espresso perché ripeto sono in attesa dei verbali delle sedute però la Costituzione italiana stabilisce che uno è innocente fino a prova contraria vuol dire che fino a quando non c'è una sentenza un giudice che stabilisce con prove che c'è un colpevole siamo tutti innocenti o possiamo essere tutti colpevoli quindi se il sindaco Damiano ha subito ha subito questa questa come dire non condanna attenzione ha subito sta subendo questa indagine verrà sentito sicuramente dai magistrati per eventuale presunta interruzione di pubblico servizio vi ricordo che derivava da una da una come dire ordinanza del presidente della regione che indicava al commissario Sonalfano e quindi alla vece ambiente di conferire i rifiuti in discarica a Trapani disattendendo quella che era un ordine della regione perché la regione ha competenza e nemmeno i prefetti ha competenza sulle discariche e allora in quel momento è venuto fuori questo papocchio io non lo so se su Mazzara si è verificata un'interruzione del servizio tutta curta per cui c'è non lo so se hanno fatto raccolta per esempio vicino alle scuole vicino agli ospedali io non so il dettaglio quindi prima di pronunciarmi in una certa maniera prima di cercare colpevoli l'ho detto poco fa in inizio di consiglio non me ne frega niente me ne infrancamente in questo momento ma è un fischio dei colpevoli e direi a tutti di concentrarci sulle soluzioni soluzioni perché colpevoli secondo me siamo tutti colpevoli in qualche misura in qualche maniera quelli che dovranno avere risposto sono i cittadini per la salute pubblica e gli operai che devono ancora avere risposta e su questo vedo che c'è buona intenzione per quanto riguarda le aspettanze e gli aumenti degli stipendi degli ultimi cinque mesi sul debito fuori bilancio io almeno che non vedo la volontà dell'amministrazione comunale di cominciare a sistemare strade perché ho visto che si rattoppano a metà e poi se ne vanno via almeno che non c'è una programmazione visibile concreta che uno non è costretto a fare vieni dagli uffici per segnalare il tombino della strada X e la segnalità della strada Y fino a quando non vedo questa cosa io sinceramente non rilevo un cambiamento un superamento di quelle che sono le grigità esposte dalla Corte dei Conti per più anni quindi anche in questa occasione capisco che si tratta di una presa d'atto ma al contempo prendo atto e non mi sento di avallare questo tipo di percorso che l'amministrazione comunale non riesce a superare per quanto attiene invece ho sentito e qui sto un suggerimento il regolamento attinente alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle scuole attenzione c'è scritto nel regolamento stesso ci sono scritte varie norme che dispongono sulla manutenzione ordinaria e straordinaria delle scuole il regolamento prescrive delle somme e un budget minimo la legge parla di altre cose la legge dice che è obbligo obbligo non facoltà obbligo dei comuni occuparsi sia dalla manutenzione ordinaria che straordinaria quindi attenzione quando diciamo ai dirigenti scolastici dovete ottemperare voi la legge il regolamento può essere interpretato ci sono delle cose che vanno secondo me modificate impegnerò la commissione nella modifica del regolamento ma attenzione che la legge dice che gli enti comunali hanno competenza e devono ottemperare sia a quella straordinaria che a quella ordinaria grazie grazie a lei consigliera Grutta non vedo più nessuno iscritto a parlare metto in votazione punto 4 all'ordine del giorno riconoscimento debito fuori bilancio derivante dalla sentenza 226 2015 pronunciata dal tribunale Marsala nella causa promossa di Trinca Giovanni Battista più 2 contro Comune Mazzarra e Vallo presa d'atto che favorevole sia seduto che contrario sia alzi che sento lo dichiaro favorevole Zizzo Foderà Norrito Giacalone Giuseppe Dannibale Impeduglia Pernice Tumbiolo Giacalone Isidonia Caruso Safina Diadema Marascia Di Gregorio Cagliazzo Astenuti Consigliere Scusate Consigliere Cangemi Consigliere Burzotta voi come siete? Favorevole Burzotta Cangemi Contrari Arena Astenuti Randazzo Alestra e il Presidente No Cangemi ha votato favorevole 21 presenti 17 favorevole un contrario 3 astenuti il punto numero 4 passa metto in votazione immediata esecutività che favorevole sia seduto che il contrario sia alzi che sono di cari è entrato il Consigliere Mauro alla favorevole Zizzo Randazzo Foderà Norrito Giacalone Giuseppe Dannibale Impeduglia Pernice Giacalone Isidonia Tumbiolo Diadema Mauro Safina Cangemi Burzotta Cagliazzo Di Gregorio Marascia Astenuti Alestra Consigliere Contraria Contraria Arena E' Presidente Consigliere Randazzo Lei è favorevole Astenuti Quindi la stessa votazione di poco fa con l'aggiunta del Consigliere Mauro 18 favorevole 18 favorevole 1 contrario 3 astenuti il punto limitato di seguità passa Passiamo al punto numero 5 all'ordine del giorno riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza 75 2015 pronunciato dal Tribunale Marsala nella causa promossa da Barrinale Luanna contro Comune Mazzara e Vallo presa d'atto Prego l'amministrazione di illustrare la delibera Signore immagino cosa si aprirà appena vi dico questo debito fuori bilancio a quanta morte 47.394 su una sentenza da parte del giudice del Tribunale di Marsala e quale riconosce a una signora che passeggiava stava camminando attraverso Piazza Matteotti mette il piede male in una in una balaustra in un piano si fa male si affronta una causa il giudice riconosce che attraverso il suo CTU un danno biologico usando le tabelle del Tribunale di Milano e riconosce un danno biologico una misura del 20% quantifica il tutto e dice che noi dobbiamo pagare 37.000 euro di danni alla persona perché si è fatta male e 10.000 euro sono le danni il tutto rientra nella fattispecie dell'articolo 194 come debito fuori bilancio e quindi anche se l'importo può sembrare o è abbastanza alto è pur vero che è stata l'invalidità riportata dalla persona che si è fatta male e qui chiudo il discorso del debito fuori bilancio per quanto riguarda i discorsi di quello che dobbiamo fare con l'amministrazione se siamo bravi o non siamo bravi questo noi cerchiamo di scorsiare sempre di essere bravi sicuramente per alcuni non saremo tali però mi dispiace non è presente il consigliere alla grutta che tanti buoni proponimenti fa a questa amministrazione ma vi voglio ricordare anzi dirvi a tutto che già questa amministrazione in questo redigente bilancio per quanto riguarda la rete urbana e quindi le strade ha messo 750.000 euro per pianificare lo status delle nostre strade sicuramente ve lo dico non finiremo mai con i debiti fuori bilancio perché nel momento in cui fatta una strada se c'è una buca o evidentemente nel frattempo se c'è un'altra buca in una strada la gente cadrà in quella buca e noi saremo costretti a pagare ma per quanto riguarda la volontà dell'amministrazione 750.000 euro sono messi nel redigente grazie assessore segretario per i pareri parere di regolarità tecnica favorevole contabile favorevole il parere del collegio dei revisori è favorevole la commissione prima commissione consigliare favorevole all'unanimità grazie segretario apro la discussione generale non vedo nessuno iscritto a parlare metto in votazione il punto 5 all'ordine del giorno riconoscimento debito fuori bilanci derivante dalla sentenza 75 2015 pronunciata dal tribunale di Marsala nella causa promossa da Parinello Anna contro il comune Mazzarevallo presa d'atto che favorevole si è seduto che contrario si alzi che se non lo dichiari favorevole Zizzo consigliare Andazzo per favore Zizzo io non lo voglio più violentare stasera quindi basta foderà Norrito Giacalone Giuseppe Dannibale Impeduglia Giacalone Isidonia Pernice Caruso Diadema Mauro Tumbiolo Safina Cagliazzo Marascia Astenuti Randazzo Di Gregorio Cagliazzo Alestra il presidente e contrario Arena Presenti 20 favorevole 14 Astenuti 5 Contrario 1 il punto numero 5 passa metto in votazione l'immediata esecutività che favorevole sia seduto che contraria gli altri che sono dichiari favorevole Zizzo Norrito Foderà Giacalone Giuseppe Dannibale Impeduglia Sì Perché è entrato il consigliere Burzotto nel frattempo Allora Ripeto la votazione Consigliere Burzotto Lei è dentro o è fuori Non è che posso Poi Mi confondo poi Alla favorevole Zizzo Foderà Norrito Giacalone Giuseppe Dannibale Impeduglia Giacalone Isidonia Pernice Caruso Diadema Mauro Safina Tumbiolo Marascia Astenuti Alestra Cagliazzo Di Gregorio Randazzo Il Presidente E Contrario Arena Mi dia la votazione 20 presenti 14 favorevoli 5 estenuti 1 contrario L'immediato Segurità Passa Passiamo Al punto Sae L'ordine Giorno Riconoscimento Debito Forbilancio Dalla Società Cooperativa Sociale Vivere Con Olus Consente In Mazzarevallo Relativa Alla retta Di ricovero Maturate Per il periodo Del 4 aprile 2013 Al 3 ottobre 2013 Prego L'amministrazione Di illustrare L'atto Prego L'amministrazione Di illustrare L'atto Signori È un debito Fuori bilancio Che non Scaturisce Da una Sentenza Ma è un'acquisizione E un riconoscimento Di fatture Che sono state Presentate Dalla Olus Vivere Con Per rette Ai minori Che sono state date C'è stato Tra tutte altre cose Un Arricchimento Da parte Del nostro Ente E siccome Non c'era Un impegno Di spesa Questa somma Che ammonta Anche qui Vi devo dare Il quantum Ve lo sto dando Ammonta A complessive A complessive 59.095 euro Va riconosciuto A chi ha prestato Questo servizio Grazie Sessore Segretario Per i pareri Spenghemi Con Sessore Parere di regolarità Tecnica E favorevole Di regolarità Contabile E favorevole Un disco Terribile Un disco terribile E del collegio De revisori E favorevole Consigli Giacalone Può dire Il parere Su questo debito Forbilangio Visto che È componente Della commissione Parere della prima commissione Consigliare E favorevole Grazie A lei Consigli Giacalone A maggioranza Grazie Consigli Apro la discussione Generale Consigli Cangemi Prego A facoltà Grazie Presidente Io Ho cercato Di studiare A fondo Quest'atto Perché Ci sono delle cose Che non mi sono state chiare E desidero Che in sala Poterci dare Maggiore Delucidazione Ad ogni modo Io cercherò Di essere Il più chiaro possibile Per quanto Mi compete Per far capire Al meglio Ai miei colleghi Consiglieri Prima di andare a votare Quest'atto Ma soprattutto Anche a tutti i cittadini Cosa Ci apprezziamo Ad approvare Quindi parliamo Di un debito Fuori bilancio Non con sentenza Ma a seguito Di emissioni Di fatture In favore Della cooperativa Sociale Vivere con Io vorrei fare Una leggera Cronostoria Per far capire A tutti Scusi Consigli Ma non ho seguito Infatti Me ne ero accorto Presidente Dicevo Voglio Tracciare I passaggi Più importanti In modo tale Che tutti Si rendano conto Cosa prevede Questa delibera E se poi Va votato O meno Ognuno se ne assume Le proprie responsabilità Allora Noi parliamo Di un debito Fuori bilancio Per rette di ricovero Di minori Di circa Sessantamila euro Che questo comune Se non ho capito male Ha già pagato Questo in favore Della cooperativa sociale Il segretario Mi dice che non ha pagato Non ha pagato Ancora meglio Mi fa piacere Periodo Che va dal 4 aprile 2013 Al 3 ottobre 2013 Quindi un periodo Di consecutivo Di sei mesi Il 14 dicembre Del 2012 Con verbale Di collocamento In comunità I carabinieri Hanno affidato Numero 4 minori Alla casa famiglia Ai fiori di Carmelo Per motivi Di necessità Ed urgenza Successivamente Il 9 gennaio 2013 Il tribunale Di Palermo Viene conferma La collocazione Dei minori Presso la comunità I fiori di Carmelo Con decorrenza 14-12-2012 Quindi dalla data In cui i carabinieri Hanno provveduto Ad affidare Questi minori Alla comunità Il 19 maggio 2014 Quindi parliamo Dopo un anno Circa Il consulente Esterno Avvocato Muscolino Esprime parere Sostenendo Che le rette Di ricovero Sono a carico Del comune Di Mazzara Del Vallo In quanto Alla data Del 4 aprile 2013 E fino A ottobre Al 3 ottobre 2013 Risultavano Residenti Al comune Di Mazzara Ma Alla data Di collocamento Di questi minori In comunità Risultavano Residenti Al comune Di Torretta Palermo E vediamo Cosa dice La legge Poi diciamo Anche chi lo dice Che era un residente Lì nel comune Di Palermo Allora La legge Regionale 1 del 2000 Articolo 4 Combo 81 Precisa che Gli oneri Per le prestazioni Socioassistenziali Che in base Alle leggi E agli atti Di programmazione Regionale Gravano sui comuni Sono a carico Del comune In cui L'avente diritto Alla prestazione È residente Per i minori La residenza O la dimora Di riferimento È quella Dei genitori Titolari Della relativa Potestà O del tutore Ne consegue Che l'ente Competente Al pagamento Degli oneri Finanziari Relativi Alle rette Di ricovero Dei minori Sottoposti A decreto Dall'autorità Giudiziaria Ed ospitati In struttura Residenziale O affidate A famiglie È il comune Di residenza Degli esercenti La potestà Genitoriale Al momento In cui È inizio La prestazione Assistenziale La prestazione Assistenziale È inizio Il 4 Non il 4 Aprile 2013 Bensì Il 14 12 2012 Quindi In quel preciso momento Erano residenti Nel comune di Torretta Provincia Di Palermo Questo concetto Lo ribadisce Anche nella sua relazione L'avvocato Muscolino E dice Testualmente In merito Alla questione Lo scrivente Osserva Quanto segue A esenza Dell'articolo 6 Della legge 328 2000 Per i soggetti Per i quali Si rende Necessario Il ricovero Stabile Presso struttura Residenziale Il comune Nel quale Essi hanno La residenza Prima del ricovero Previamente Informato Previamente Informato Assume Gli obblighi Connessi All'eventuale Integrazione Economica Alla data Del 14 Dicembre 2012 In cui risulta Che i carabinieri Hanno Assegnato Tali minore Alla casa Famiglia I Fiori di Carmelo Gessita Dalla Hollus Vivere Conde Di Mazzara Del Vallo Questi risultavano Non iscritti Questo lo dice L'avvocato Muscolino Non iscritti In alcun Comune Adesso andiamo a leggere Cosa dice Il verbale Dei carabinieri Assistente sociale Tutto il resto Alla quale vengono consegnati I seguenti minori Quindi all'assistente sociale Che risultano Io non vado a leggere Il nome e cognome Per un discorso di privacy Che risultano residenti A Torretta In via Eccetera eccetera Torretta Palermo Quindi questo lo dicono I carabinieri L'avvocato evidentemente Non aveva visto Questo verbale Non lo so Ma non solo Anche la cooperativa Sociale Vivere con In una relazione Che ha inviato Solo dopo un anno Dall'erogazione Il servizio Al comune Di Mazzarale del Vallo Quindi dopo un anno Cosa dice I minori in oggetto Sono stati inseriti Questo lo dice Il rappresentante legale Della cooperativa Vivere con I minori in oggetto Sono stati inseriti In casa famiglia Fiori di Carmelo In data 14 12 2012 Insieme alla madre Eccetera eccetera Tramite l'intervento Dei carabinieri Di Campobello Di Mazzara Per motivi Di necessità Ed urgenza Articolo 403 Codice civile L'intero nucleo familiare Ecco cosa dice Il responsabile L'intero nucleo familiare Ha percorso Vari pellegrinaggi In diversi comuni In cerca di aiuto Al momento Dell'inserimento Il nucleo Risultava essere Residente nel comune Di Torretta Palermo Non Irreperibile Dalle 14 Aprile 2012 Ma che li ha cercati Irreperibili Non c'è nessun documento Dove si evince Che queste persone Sono state cercate Tant'è vero Che dopo sei mesi Ritornano nella stessa Residenza Di Torretta A Palermo E allora Quando Un minore Viene Collocato In una comunità La comunità All'obbligo Presidente Mi scusi La comunità La comunità Che ospita I minori All'obbligo Per legge Di comunicare Tempestivamente Quindi già dall'indomani mattina Al tribunale Alla procura E al comune di residenza Al comune di Mazzara Queste informazioni Sono arrivate dopo un anno Assieme alle fatture E allora A questo punto Mi sorge anche un dubbio E dico Dopo la comunicazione Dopo Se ci fosse stata La comunicazione Il comune Tramite servizio sociale Mi rivolgo All'assessore Doveva immediatamente Intervenire Intervenire Per la supervisione Che per legge Dei servizi sociali Quindi ci dovesse L'intervento Dei servizi sociali Immediatamente Presidente Io devo completare Il ragionamento Se no non si capisce La mia domanda qual è In questo anno Visto che il comune Non era a conoscenza Perché il comune È venuto a conoscenza C'è scritto anche Nella relazione Nella delibera È venuto a conoscenza Dopo un anno Chi ha provveduto A fare il monitoraggio Di questi minori Hanno fatto bene In questa comunità Hanno fatto male Hanno raggiunto L'obiettivo Oppure no Chi ce lo dice Questo Però ci arrivano Le fatture Sessanta mila euro Il progetto formativo Che per legge Va fatto Assessore Il progetto formativo Va fatto È previsto Dalla legge Per i minori Chi lo ha fatto Questo progetto Questi minori Hanno potuto avere La possibilità Di avere un progetto Per inserirli Per formarli Non lo sappiamo Perché il comune È venuto a conoscenza Dopo un anno Assieme alle fatture E questo si evince Dagli atti Non lo dico io Pertanto Io non voglio dilungarmi Perché capisco Magari c'è qualcuno Che vorrà intervenire Su quest'atto Io Voterò contro Quest'atto Perché la competenza Era del comune Di Torretta E non del comune Di Mazzara del Vallo Perché alla data Del ricovero I soggetti Questi minori Erano residenti A Torretta Tant'è vero Che la cooperativa Quasi tempestivamente Si è rivolta Al comune di Torretta E diciamo Che il comune Di Torretta Provincia di Palermo Ha risposto Negativamente Dicendo a noi Non interessa Sono soggetti Senza fissa dimora Non è vero Erano residenti E i genitori Conviventi Sono tornati Dopo sei mesi Dopo questo periodo Di sei mesi Trascorsi A carico Del comune di Mazzara Sono tornati A Torretta Quindi conoscevano L'indirizzo Conoscevano tutto Avevano un'abitazione Dove poter richiedere Nuovamente Nuovamente La residenza In questi sei mesi Sono stati residenti In via Potenza A Mazzara del Vallo Ma una data successiva A quella del ricovero Grazie Grazie a lei Consigliere Cangemi A chi si può parlare Consigliere Randazzo Prego Ne ha facoltà Presidente Giunta Colleghi Consigliere Comunale Questo atto deliberativo Ho avuto modo Di esaminarlo Personalmente Insieme al collega Giacomo Cangemi Che ha avuto La lungimiranza Diciamo Di scovare Tutta questa serie Di dati Che Ahimè Destano qualche sospetto Io spero Che sia solamente Un caso Isolato E che non sia Che questa cooperativa Questo atto deliberativo Non faccia parte Di un meccanismo Consolidato Ma per toglierci Ogni dubbio Per toglierci Ogni dubbio Da domani mattina Insieme al collega Giacomo Cangemi Annuncio la presidenza Faremo un'ulteriore Richiesta di accesso Atti Per tutte quelle cooperative Associazioni Centri per immigrati Comunità Ollogio Che hanno rapporti Economici Con il comune Di Mazzara del Valle A quanto pare Questa città Non ha un buon feeling O quantomeno è sfortunata Con associazioni Cooperative E via di seguito Presidente Vediamo Io spero soltanto Che sia solamente Un caso Isolato Grazie Richiedere gli atti È lecito Perché giustamente Ogni consigliere comunale Deve fare questo A proposito Ha chiesto di parlare Il consigliere di Arena Prego Ne ha facoltà Vede Presidente In questo atto Sono molte le cose Che Che hanno Che non sono Ben precise Il fatto che Il comune di Torretta Dica Che questa Famiglia Non sanno nemmeno Dove ha la dimora E quindi Si deve accertare Il fatto che Un giudizio Di un giudice Dà la possibilità A queste Tre ragazzine E alla mamma E alla mamma Di andare In un In un centro Per ricovero Per minori E un'altra situazione Familiare Che è quella Del papà Che per quello Che leggo Sembra che Spuga A quale Possessero Le normali Prassi Della vita Normale Di un cittadino Cioè qui sempre Che questa persona Ha la possibilità Andando in qualsiasi Ufficio Anagrafe Di dire Da oggi Io sono residente A Mazzara Dopo due mesi Dire Io sono residente A Palermo Dopo cinque mesi Sono residente A Oxford Con una facilità Unica Cioè oggi Scusi In una Qualsiasi città Da Mazzara Vado a Castelvetà Mi chiederanno Credo Dove abito Cosa andrò A fare Un nubolo Familiare E qualche altra cosa Ci sarà un organo Proposto Andare a verificare Se io realmente Sono residente O meno In quella Città Perché qua Parliamo di una residenza Che deve essere Da domicilio Perché questa persona Poteva tranquillamente Fare un domicilio A Mazzara Avere Per esempio Una residenza Da stessa città E cambiare D'omicilio Perché ha cambiato Residenza Cioè tanto facile Cambiare residenza Dopo tre mesi In un anno Ha cambiato Quattro residenti E non c'è nessuno Che è andato a vedere Se effettivamente Questo signore Abitava A Mazzara Nella via Totte A numero Civico Totte E chiedo anche Quando io faccio Qualcuno mi risponde Perché può essere Che sto prendendo Compendendo una cantonata Se io vado All'ufficio Anagrafe E chiedo Che sono residente Nella città Di Mazzara Mi sarà detto Dall'ufficio Anagrafe Qual è Lo stato familiare E quindi Se io ho un certificato Qua raciato Dall'ufficio Anagrafe Mi dice Certità 4-4-2013 Io abito E c'è soltanto Il nome Del papà Di questa persona E non vedo E non vedo Io non so Io non so Trovare Con malizia Per esempio Ripeto Per questo signore Avevo preso Una residenza Una città Si può andare Anche perché Anche perché la retta Come mai Sta arrivando Così Il ritardo Non c'è nessuno Che ha pensato Ma la retta Di queste persone Chi li paga Grazie presidente Grazie a lei Consigliere Rena Non vedo Più Nessuno Scritto A parlare Consigliere Di strabligo Io Scusi Grazie Per avermi Dato la parola Io direi Che Il consiglio Comunale Dovrebbe Ricevere Qualche ulteriore Chiarimento Rispetto A questo Atto Deliberativo Perché Veda Non vorrei Che si agisse O si facesse Affidamento Sulla Buona fede Dei consiglieri Comunali Che devono Approvare Un atto Che a quanto pare Non ha tutti i crismi Della correttezza Non voglio dire Della legittimità Ma quantomeno Della correttezza Quindi Noi dobbiamo essere messi Nelle condizioni Perché domani Poi Siamo pagati Cioè siamo chiamati Personalmente Eventualmente A pagare Un eventuale Danno erariale Che deriva Dal nostro consenso A quest'atto Deliberativo Quindi Se Io vorrei Che L'amministrazione O i revisori Dei conchi Perché hanno dato Un parere favorevole Dessero qualche ulteriore Delucidazione Rispetto a Quest'atto Prima di metterlo In votazione Dal momento Che ci sono Molte incongruenze E molte Irregolarità Nella Nell'atto Stesso Grazie 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 Consigliere Alestra Consigliere D'Annibale Prego Grazie Presidente Giunta Egregi Colleghi Ho in merito Alla votazione Di quest'atto Non nascondo Che anche Il Presidente della prima commissione Componenti della prima commissione Sono sorti Dei dubbi E delle perplessità In merito Alle dinamiche Di come Sia maturato Questo debito Fuori bilancio Motivo per cui Chiedo Alla dottoressa Marascia In qualità Di notaio Della seduta Di rassicurarmi In merito Alla legittimità Dell'atto Che stiamo andando A votare Grazie Assessore Ballatore Prego Presidente Sentito Tutti gli interventi Dei colleghi Comentaneamente L'amministrazione Ritira l'atto Per il seguito Che arriva Grazie Assessore Ballatore Vista l'ora tardi Chiudo il consiglio comunale Buonasera a tutti E alla prossima